Bentornati all'angolo del frusciante. Se nell'ultimo o primo video fatto per Film is Now parlavo dei film che attendevo di più nel 2017, questa volta ho deciso di fare una classifica dei migliori horror degli anni 2000 fino ad oggi. Praticamente dal 2000 al 2016, 2017 chiaramente è messo fuori. Le classifiche comprenderanno anche i peggiori film degli anni 2000, così da farci magari quattro risate per andare da un po' per il culo questi filmacci orribili. Chiaramente come tutte le classifiche sono cose molto soggettive, quindi i film che mi sono venuti in mente sono quelli che sono i primi che mi sono passati per il cervello. Ne saranno rimasti fuori probabilmente 30-40 dei migliori, ma come si dice sempre, le classifiche perdono il tempo che trovo, nel senso che sono più un giochetto divertente che una cosa valida criticamente. Diciamo che sia arrivato critico, ma io comunque questa volta ho deciso di farla e di divertirsi magari un po' insieme, buttando lì qualche titolo che magari però vi siete anche persi. Dico subito che i film sono in ordine sparso, non sono dal più bello al più brutto, non ha una classifica che parte da uno e arriva al 50. Sono i film che mi sono venuti in mente a me nella testa a livello sparso e quindi a livello sparso vi darò anche come consiglio. Il primo film che mi sento di mettere tra i migliori film degli anni 2000 è appunto del 2000, è di Takashi Miki, un autore fantastico del quale andrebbero messi altri 45.000 film. Ma siccome ho deciso di mettere solo i film editi in Italia, cioè usciti al cinema, uno in video, se no ci saremmo passati 15 giorni a fare questo video, Audition di Miki racchiude un po' la sua ottica del cinema horror. Ed è la storia di una ragazza praticamente che incontra un uomo perché quest'uomo ha fatto fare a un suo amico regista una specie di finta audizione per un film per far conoscere appunto a questo suo amico che ha perso la moglie e delle ragazze. Conosce questa ragazza che sembra molto a modo tutta perfettina, in realtà è una psicopatica serial killer che taglia pezzi della gente e le infila spilloni da tutte le parti. Ora il film di Miki è secondo me un capolavoro di tensione, un capolavoro di follia, di vinciano in un certo senso. Ma come per tutti i film di Miki, secondo me qui quello che conta è sempre il rapporto umano tra i personaggi ed è quello che fa più orrore, proprio la rappresentazione della società giapponese e soprattutto il finale, un finale completamente scollegato e surreale che rende il tutto ancora più forte. Il secondo film che mi è venuto in mente è Lasciami entrare, del quale è stato fatto un remake, Blood Story, in America, ma io ho preferito all'altra stragrande, il film svedese del 2008 di Thomas Arthur, Alfredo, che poi dà la sua grande prova con la tarpa, un altro bellissimo film. Quindi Lasciami entrare, è la storia di una ragazzina che incontra un ragazzino in un parco innevato e noi poi veniamo a scoprire che la ragazzina in realtà non è altro che un vampiro immortale, che si porta dietro un, diciamo così, servo anziano, che riporta le vittime, che si capisce aver avuto un rapporto quasi, diciamo così, come possiamo dire, pedofilo con questa ragazzina, forse uno scambio quasi equo in quel senso, insomma, una cosa un po' morbosa, particolare, ma la cosa più interessante è proprio il rapporto che si instaura fra una ragazzina vampira dalla quale scopriamo un'immagine assurda che potrebbe non essere una ragazzina, ma potrebbe essere stato un ragazzino, capirete perché, se guardate il film, ed è un film perfetto a livello proprio di sceneggiatura, di fotografia, montaggio, un film lento, l'avevato, che riporta finalmente il cinema dei vampiri a livelli alti e non di gente che vi lucida al sole. Quindi Lasciami entrare un altro grande film degli anni 2000. Come lasciare fuori Romerone dai film degli anni 2000? Romerone ha praticamente fatto capolovere negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 e anche negli anni 2000. Negli anni 2000 di Romerone ce ne buttiamo due, ovvero Die of the Dead del 2007 e La terra dei morti viventi, che è poi il quarto capitolo della saga classica dei film di Romero, che è del 2005. Partiamo da Die of the Dead. Die of the Dead è la storia di un gruppo di ragazzi di una scuola di cinema che va a girare un film horror in mezzo ai boschi e mentre gira questo film horror in mezzo ai boschi con il professore si rende conto di un'epidemia zombesca vera che sta distruggendo il pianeta. A questo punto il regista con l'aiuto della sua ragazza decidono di girare un documentario proprio da mettere poi in rete per poter far vedere alla gente come è nata questa epidemia e per non far perdere, diciamo così, il ricordo di questi giorni terribili. Ora il film è una genialata perché è un falso documentario, solo che a differenza degli altri falsi documentari Romero ci butta dentro un po' di tutto. Al solito a livello sociale e politico del regista ormai naturalizzato canadese è fantastico. E il film è anche geniale per come viene strutturato perché se in altri documentari ci troviamo di fronte a innesti di musica, montaggio e tutto il resto qui invece tutto viene calcolato perché noi subito dalle prime inquadrature veniamo informati dalla ragazza del regista all'interno del film che quello che stiamo per vedere è un montaggio fatto da lei, musicato, cambiato, effettato appositamente per un pubblico che dovrà seguire la genesi e la fine di questa epidemia zombie. Il film è bellissimo, è girato in maniera perfetta e Romero sembra essere più a passo dei tempi dei registi di vent'anni che usano questo genere, quindi è impossibile non consigliarlo. L'altro film come detto è La terra dei morti viventi, ovvero il quarto capitolo della sua saga iniziata con La notte dei morti viventi proseguita con Zombie e poi Giorno degli zombie. Dopo vent'anni dal Giorno degli zombie Universal gli dà qualche soldo e tira fuori questa torre della terra dei morti viventi. Un film ambientato in un futuro prossimo dove ormai gli zombie hanno preso praticamente possesso di quasi tutto il pianeta e dove solo i ricconi riescono a resistere in queste torri gigantesche dove vengono aiutati nel loro continuare a vivere come se gli zombie fuori non ci fossero da questi proletari che con questi camion e cose vanno a recuperare roba dalle città ancora infestate e gliele portano per poterli far sentire ancora così aristocratici e ricchi. Finché gli zombie naturalmente, come è in tutta la forma zombifica nella mente di Romero finché gli zombie non prendono sempre più coscienza umana e decidono di ribellarsi e fare una rivoluzione verso questi ricconi. Va detto che poi i nostri protagonisti sono altri, in realtà non sono solo gli zombie e i ricconi ma sono appunto questo gruppo di persone che va con questo Dead Reconi, questo camion corazzato a recuperare appunto le cose nelle città per i ricconi. A un certo punto anche questi si incazzano, lasciano perdere e quindi diventerà una guerra fra ritti e poveri, vera e propria. Romero inventa un'altra volta il suo mondo, lo reinventa e lo porta avanti nel film forse più carpenteriano che abbia mai girato, un film bellissimo dove troviamo addirittura Nasi Argento che convince quindi un film incredibile per questi pezzi, un film come ho detto politico e intelligente. È La terra dei morti i venti, 2005 di Romero, un altro dei più belli horror degli anni 2000. Se Romero ne avesse fatti altri quattro cinque probabilmente ci sarebbero anche così. Non ci ho messo a Survivor of the Dead solo per non mettere tutti i film di Romero. Altro filmone è del 2002, è di Don Coscarelli che poi è il regista che inventò la bellissima saga di Phantasm che con quest'anno è arrivato al quinto capitolo e che ha girato altri film molto importanti anche di cassetta come Cane il guerriero o altre cose di questo tipo. Ma con questo Bubbo Tepp appunto del 2002 interpretato da Bruce Campbell sicuramente tocca a livelli del capolamore assoluto. Ed è la storia di questo settantenne, ottantenne che è in una casa di riposo che dice di essere il vero Elvis e noi comunque gli crediamo sulla parola. Dice di essere il vero Elvis e si rende conto che in questa di casa di cura c'è una mummia che praticamente viene a ammazzare i vecchi così che la gente non se ne accorga in fin di vita portandoli via l'animo. Si mette insieme ad un uomo di colore completamente rincoglionito che dice però di essere Kennedy. Questa strana coppia decide di combattere appunto questa mummia che vuole distruggere come ho detto le vite di questi pazienti di questa clinica. Ora Coscarelli è un grande regista qui da un romanzo di John Lansdale che tira fuori un film bomba, un film imperdibile, uno di quei film che ha segnato negli anni 2000 un certo tipo di svolta anche per Bruce Campbell stesso che comunque è legato spesso al cinema horror ma qui riesce a dare un Elvis credibilissimo a girare un film completamente fole e soprattutto ad essere inserito finalmente come vero protagonista oltre ai film di Regni perché sennò fa sempre il caratteristico. Quindi sono contentissimo di girare questo Bubotep che è perfetto in tutta la sua parte sia tecnica che di sostanza, un film che parla della vecchiaia in maniera allucinante e che fa riflettere forse quanto un film meraviglioso come una storia vera di David Lynch pur essendo completamente riverti sia come forma che come racconto della vecchiaia. Ma il succo è sempre quello, quindi grandissimo film Bubotep del 2002. Tra i documentari è difficile salvare qualcosa però in realtà ce n'è uno da salvare girato da Quattro Mani da Balaguerò e Plaza, un film che dura pochissimo, l'ora e dieci o l'ora e un quarto, questo film è REC. REC è un film molto interessante, è la storia di questa giornalista che sta per filmare il classico documentario su Vigili del Fuoco che si trova invece ad andare dietro ai Vigili del Fuoco che entrano in un palazzo, peccato che questo palazzo sia infestato dai mostri, infetti, demoni, più che zombie e che questo palazzo venga messo in quarantena e noi quindi seguiamo tutte le avventure all'interno esclusivamente del palazzo di questi nostri Vigili del Fuoco, del cameraman e della nostra protagonista. La cosa generale del film è che il film è girato qua praticamente tutto con 5-6 piani sequenza di fila, il montaggio quasi è completamente eliminato. Balaguerò e Plaza girano a Quattro Mani un film che poi ha generato altri tre seguiti, REC 2 che è sempre bello, REC 3 che è buttato più sul divertente, REC 4 che è un po' più fallimentare, ma resta il fatto che il primo REC comunque è uno di quei film che fanno veramente paura, che rimangono addosso e che ha una fotografia, un montaggio eccezionale. Inoltre gli attori sono bravissimi e la Spagna come al solito ricorda che riesce sempre a portare fuori dei buoni film e soprattutto a creare anche delle mode. Questo REC comunque che è stato poi rifatto in America col titolo di Quarantena ed è un troiaio inenarrabile, è uno di quei film spagnoli che verranno ricordati di più e sicuramente uno dei film più interessanti horror degli anni 2000. Si torna in Giappone dopo Audition di Mika e per citare una delle serie più importanti in Giappone che ha avuto anche un successo enorme partito da una serie televisiva, questo film però è il primo portato per il cinema e è arrivato anche da noi, si chiama Juon Rancore di Takashi Shimizu. La Shimizu è un bel talento e con questo Juon ci ha la storia di una ragazza che deve andare praticamente a dare una mano a una signora anziana in una casa, nella quale esistono presenze dannosissime che portano molto rancore a chiunque entri nella casa e poi scopriremo i vari livelli dei vari spettri che appariranno nella casa per capire più o meno come saranno identificati nella trama perché la trama è un po' in flashback, amanti e indietro quindi una trama un po' particolare come per tutti i film giapponesi le spiegazioni saranno anche date più dalla macchina da presa che dai dialoghi quasi assenti in tutto il film. Però Juon e Takashi Shimizu oltre ad essere stato anche vestore ametizzato in America e sono arrivati qui al terzo, è un film che comunque ha segnato un'epoca per la nuova ondata horror giapponese perché insieme ai vari diringhi e tutto il resto che però sono degli anni 90 e quindi non possono rientrare in questo film, in questo video, hanno dato la nuova spinta a questo horror giapponese che finalmente è arrivato anche da noi e quindi ha dato una spinta un po' a tutto il cinema orientale, spinta che però mi sembra negli ultimi anni si stia un po' spingendo, della quale sono abbastanza dispiaciuto. Quindi che dire, Juon è un film bellissimo a livello di proprio tensione perché sangue non ce n'è quasi più, non ce n'è quasi niente, un film fatto in realtà di spaventi veri che giocano quasi tutto sulla lentezza, sui movimenti degli spettri stessi che sono molto artificiali e molto diciamo così particolari, non sono proprio all'adering con lei che si muove fluida, si muove una scatti, un mostri veramente particolari. Le era venuta proprio bene questa idea a Takashi Shimizu, poi stiracchiata già in Giappone e diventava banalissima, quelli americani, anche se c'è poi Shimizu di mezzo e anche lì sono completamente da dimenticare. Un regista americano che è venuto fuori dopo che ha suonato a Palla di Foro il consiglio del primo disco di White Zombie, Soul Crusher del 1987, è Rob Zombie. Rob Zombie è partito come La Casa dei Miele Corpi e partì già benissimo, però i due film che voglio consigliare in realtà come i migliori secondo me tra gli anni 2000 sono il seguito della Casa dei Miele Corpi, ovvero La Casa del Diavolo, cioè la storia di questa famiglia che all'inizio del film riesce a scappare dalla polizia e fare un road movie dove praticamente ammazzerà tutto quello che cammina per cercare di salvarsi proprio perché attaccati appunto dopo aver ammazzagrato decine e decine di giovinastri come si capisce nel prequel, diciamo così, La Casa dei Miele Corpi, che però non metto fra i migliori del 2000 perché preferisco, questa è La Casa del Diavolo, perché lo preferisco? Prima di tutto perché Zombie matura come regista, la fotografia comincia a essere quella degli anni 70, sembra di vedere un film di Sam Peckinpah e poi perché Zombie stavolta costruisce un film anche socialmente più interessante, vediamo che lo sceriffo è più folle forse degli stessi folli che comunque noi andiamo a seguire e incredibilmente riusciamo forse ad infezionarci di più a questi assassini che al classica media borghesia americana che sembra tutta rosa e fiori e che nasconde in realtà una cattiveria infinita al suo interno. È un film bellissimo, come ho detto, con un finale splendido dove finalmente Free Bird e The Limey Scanner viene usata come si deve e non come canzoncina d'amore di merda. Quindi questo è il primo film di Rob Zombie che vi consiglio, ma in seguito secondo me farà il suo vero capolavoro nel 2012, ovvero Le Streghe di Salem, un film massacrato da Mezzomondo, distrutto, definito un troiaio, io invece lo definisco un grande film, la storia di questa DJ Radifonica che riceve un disco di questi signori di Salem, DJ Radifonica appunto che lavora a Salem e alla cittadina, quando lo ascolta praticamente da un po' di matto come tutte le donne di Salem. Noi scopriamo che questo disco praticamente nient'altro è che è una cosa incisa centinaia di anni prima da un gruppo di streghe per riportare praticamente alla vita l'anticristo attraverso la strega che sarà poi la moglie di Rob Zombie, quella gran culo che ha Sherwin Zombie, quel gran culo che anche sia nella casa del diavolo che nella casa dei miei corti che soprattutto anche nelle streghe di Salem, il marito Rob non farà a meno che mostrarcelo per tutto il film come giusto che sia. Le streghe di Salem è un film cubricchiano, una roba, un film cubricchiano quadratissimo dove ogni inquadratura è studiata nei dettagli e si capisce che è matematicamente proprio chiusa in degli schemi predefiniti. È un film con un ritmo abbastanza lento, un film che vive anche dalla musica assurda di questi World of Salem, che sa molto di Velvet Underground, non è un caso che Velvet Underground siano una delle cose importanti della colonna sonora perché senza Danus Infurse e tutto il resto il film probabilmente non avrebbe funzionato in tal modo, ma funziona anche per una grande fotografia e soprattutto per una grande prova degli attori dove troviamo il nero Ken Foley che era protagonista di Zombie e appunto di George Romero. Quindi indimenticabile per me è questo le notti di Salem del 2012 di Rob Zombie aspettando adesso 31 che la Midnight Fire sarà compiata e vi ci dovrebbe mandare in un video ossia, ovvero il suo ultimo session. Film impossibile da non mettere in questa classifica del 2001, session 9 di Brad Anderson che poi farà altri bei film come L'Uomo senza Sonnevia, ma qui parliamo di questo in particolare. Un gruppo di operai di una ditta specializzata viene mandata a levare i pezzi di amianto da un vecchio manicomio criminale che ormai era stato chiuso perché erano arrivate oltre 7000 pazienti, c'era stata una specie di rivolta all'interno e noi assistiamo in realtà al lavoro che fanno questi operai all'interno di questo manicomio. Così detto così sembrerebbe semplicemente quasi un documentario su come levare l'amianto, ma in realtà cosa succede? Che mentre fanno questa cosa uno di loro trova delle registrazioni che fanno rinascere il male che in realtà è rimasto tra le pareti di questo bellissimo tra l'altro edificio, visto dall'altro edificio non ricostruito ma edificio vero esistito e che esiste ancora e che il regista vide per caso mentre camminava per la strada e disse lo giriamo qui il film, lo giriamo. I protagonisti del film sono David Caruso che è il rosso che faceva il CSI mi pare e soprattutto Peter Mulan, grande regista di Magdalene e altri film e soprattutto grande anche autore sia perché lo ci mani iniziò che in questo grande Session 9. Session 9 funziona alla stragrande proprio perché in realtà attraverso lo sguardo dell'horror puro il sangue arriva poco, anche se poi gli omicidi cominceranno a susseguirsi. È un film che gioca proprio tutto sulla tensione, ci sono un paio di scene come quella del corrido dove si spenge tutta la luce oppure quella meravigliosa dove il nostro Peter Mulan è all'esterno della casa e incomincia a sentire delle voci sempre più presenti come quando parla il telefono con nessuno visto che il telefono è una batteria. È un film in realtà che parla più della pazzia e di come viene instillata attraverso piccole cose, un bimbo che piange, un cane che abbaglia troppo. Un film da scoprire assolutamente del quale non voglio parlare di più perché non molti l'hanno visto e chi l'ha visto come me comunque non potrà dire altro che è un capolavoro dei nostri anni, ovvero quelli degli anni 2000. Reini ormai è buttato con l'uomo di ragno, è diventato ricco, famoso, sì, però nel 2009 da un colpo di coda verso l'horror, gira un film a basso costo, si chiama Drag Me to Hell, della storia di questa ragazza che lavora in banca, che vorrebbe diventare praticamente vice direttrice della banca dove lavora, che rifiuta un prestito a una zingara, una signora anzianissima, che li butta addosso una maledizione, ovvero lei verrà entro pochi giorni portata all'inferno da questa lamia. Quindi noi seguiamo le peripezie di questa ragazza e del suo ragazzo per cercare di trovare il modo per non essere estempiata da questa lamia. Allora, Reini che cosa fa? Gira un film fantastico perché è un film come a suo modo sempre molto personale. Gira questo film che mescola commedia come al solito horror e diciamo così quasi in una messa in scena fumettistica in quel senso. Insomma, come dicevo, Reini gira un film intrigante, interessante e soprattutto con un finale che non ti aspetti. Anche perché poi il tutto vorrebbe anche parlare, ed è impregnato di questo, della situazione economica americana e del disastro che le banche hanno combinato e della impossibilità anche dei poveri di poter avere un aiuto dalle cosiddette banche che comunque vengono sempre aiutate, basta vedere in Italia e sganciano miliardi su miliardi per salvare e quando per salvare cittadini si sgancia manco un erro. Quindi Drag Me 12, un film politico, in realtà nel suo essere un film anche di divertimento politico, horror, commedia, tutto convive benissimo perché Reini è un grande e gira uno dei film più interessanti degli anni 2000 che è questo appunto Drag Me 12. Bong Joon è un regista fantastico, uno dei registi coreani più interessanti di sempre e ci regala anche un horror nella sua filmografia fatta da Snowpiercer alla madre e a film un po' più d'autore, ma io dico sempre che i film d'autore sono quelli che gli fa l'autore e non il genere che viene fatto dall'autore stesso. Quindi che dire, questo The Host è un classico film di mostri. È la storia di questo mostro che nasce dal fiume Han in Corea e che praticamente rapisce la figlia di uno che è un po' fuori di testa, che è un grandissimo attore che ritroveremo in 2000 film di Bong Joon, anche mi pare membro di Sion Marders e il suo capolavoro iniziato in thriller, che insieme alla famiglia quindi si metterà alla ricerca appunto di questa bambina che viene rapita. A questo mostrone è portata, diciamo così, nelle fogne come cibo di scorda. Poi la storia chiaramente non è solo questa, il tutto nasce dall'inquinamento, quindi c'è una logica di voglia di far capire da Bong Joon un'altra volta che è un regista sociale e politico proprio di natura, far capire come l'inquinamento porterà a cose peggiori di quelle che sembrano, come i militari siano completamente anestetizzati dal loro potere e come anche gli scienziati stessi per il bene della scienza non facciano altro che anche sacrificare il sacrificabile. Oltretutto ha un finale per niente consolatorio ed ha degli effetti e un ritmo fantastico. Tutta la scena iniziale, quando arriva il mostro che scende dal ponte del fiume Han e incomincia a rincorrere di tutti, dove c'è quella scena fantastica che lui porta la figlia per mano, poi si gira e invece ne piglia un'altra già, è questa cosa assurda perché Bong Joon in questo film riesce a mescolare il dramma, il melodramma familiare, la commedia incredibilmente, l'azione e l'horror fantasy tutto insieme, quindi The Host non può che essere uno dei migliori film degli anni 2000. Film canadese del 2008 di Bruce MacDonald rimasto sottotono, non conosciuto da molti, che si chiama Pontipool, è invece uno dei film più originali e più astudi che mi sia capitato di vedere su un'invasione diciamo così zombesca del mondo. Ed è la storia praticamente di un DJ radiofonico che appunto all'interno di questa radio incominciano a parlare, a capire che all'esterno di questa stazione sta avvenendo una specie di infezione, una specie di virus, solo che questa volta invece che il virus essere portato da morsi, portato da armi biologiche, portato da qualche cosa, è portato dalle parole, da ciò che si dice, alcune parole fanno impazzire completamente la gente. Film quindi molto originale nel suo essere messo in scena e tra l'altro è recitato benissimo da attori di serie Mima che se la cavano alla stragrande, montato e fotografato da Dio. Una storia che vola via, che è una bellezza e che chiaramente però non è per gli appassionati dei remake mostruosamente brutti tipo l'Alba dei Monti Venti e la Snyder. Qui bisogna cercare di entrare in un loop di una storia che è quasi tutta girata all'interno e nella quale troviamo poche scene splatter e nella quale troviamo più che altro una grandissima idea di come il linguaggio, il movimento e la parola possa essere più pericolosa di altre cose che noi riteniamo dannose. Un film veramente incredibile che dovrà far riflettere chi lo guarda più di quanto non possa sembrare a prima vista. Quindi Pontipull è un film che vi consiglio alla stragrande ed è un film che consiglio in questa classifica tra i migliori degli anni 2000 assolutamente. Ancora in Giappone e ancora con un regista fantastico, Kurosawa di cognome non è Akira ma è Kiyoshi Kurosawa. Il film è del 2001 e si intitola Cairo Pulse e anche di questo è stato fatto un remake orrendo americano che vi sconsiglio di vedere assolutamente. Invece il nostro, diciamo così, film originale è fantastico, è una storia assurda. Praticamente i fantasmi decidono di poter ritornare sul nostro piano visivo attraverso una specie di hackerismo dei computer moderni e quindi attraverso il suicidio anche delle persone che stanno appunto davanti allo schermo del computer dalla mattina alla sera. Ed è fantastico perché questi spiriti possono essere truti fuori solo mettendo un nastro isolante o qualcosa di rosso attraverso le pareti e le porte per non farli passare. Allora è un film che mette in scena la storia di un ragazzo e una ragazza che cercano di scappare da questa, diciamo così, infezione attraverso vari livelli, fino a un finale meraviglioso su una barca che lascerà di stucco chi non l'ha vista. Un film bellissimo, proprio una fotografia incredibile che parla appunto dell'alineazione del mondo moderno che ormai è costretto a mettersi più di fronte a un computer e essere eseguito da un algoritmo che seguire in realtà gli insegnamenti magari di una persona più anziana o gli insegnamenti di una persona che ne sa di più. Proprio diceva già 15-16 anni fa, curiosava come il mondo sarebbe potuto andare a finire e come in realtà sta peggiorando perché la gente come al solito non sa utilizzare a dovere, almeno la maggior parte, tutti i tecnici mezzi evolutivi diciamo così, della tecnologia che ci sono stati dati negli ultimi 15-20 anni. Un film potentissimo, bellissimo, fotografato da Dio con un montaggio eccezionale che fa una paura incredibile. Quindi un film da consigliare e riconsigliare mille volte appunto è questo Kaido perché il Giappone comunque regna. Nel 2005 dalla Gran Bretagna dopo il bel esordio con Dodux Soldiers arriva Neil Marshall e regala questo capolavoro, questa pellicola incredibile che si chiama The Descent. The Descent è la storia praticamente di un gruppo di amiche che riportano una delle loro amiche che ha avuto un lutto enorme l'anno precedente avendo perso marito e figlio e figlia in un incidente d'auto, portano diciamo questa sua amica a fare di nuovo esperienze estreme come facevano prima insieme al marito e alla figlia tutti insieme attraverso delle grotte, delle grotte praticamente da esplorare. Quindi è la storia di queste amiche che scendono in queste grotte e che rimangono intrappolate in queste grotte ma esplorate fino a quel momento. Ora già fino a qui sarebbe interessante. Il problema è che all'interno di queste grotte in realtà noi troviamo degli esseri che sono evoluti attraverso appunto la vita all'interno della terra e non all'esterno. Quindi ciechi, mostruosi e soprattutto cannibali, cosa da non mettere in secondo piano. Marshall dirige alla grande un gruppo di attrici fantastiche e mette in scena dei mostri geniali. Oltre ad essere spaventosissimo il film è un'altra volta una riflessione su come l'amicizia e la, diciamo così, la forza d'animo possano essere diverse e distrutte a seconda della situazione. Qui per esempio partono tutte amiche e dopo 20 minuti sembrano odiarci e tutti, diciamo così, gli screzi che vengono fuori in una situazione così drammatica e forte e pesante diventano forse più pericolosi dei mostri stessi che le stanno seguendo. Quindi che direi di più? Di Dean Marshall guardatevi tutto, Centurion, questo, Doomsday, guardate tutto quello che è possibile, ma siccome dovevo scegliere fra gli horror ho scelto questo Red Asht, che è davvero uno dei capolavori degli anni 2000, un film imperdibile che dovete per forza vedere almeno 5-6 mila volte. Danny Boyle è un regista che gira di tutto e gira anche un film meraviglioso sugli infetti. È il 2008 e gira questo film fantastico, bellissimo, che avremo anche un bel seguito 28 settimane dopo appunto di Fernandillo. Stiamo parlando appunto di 28 giorni dopo. Praticamente un'epidemia che parte da delle scimmie rabbiose che si dipana in tutta l'Inghilterra e distrugge praticamente quasi tutta la popolazione rendendola infetta e appunto rabbiosa. Vediamo questa cosa attraverso gli occhi di un ragazzo che era in coma e che si risveglia praticamente 28 giorni dopo appunto la prima esposizione del virus e che si ritrova in una Londra deserta nella quale dovrà affrontare appunto gli zombie ed anche dei militari completamente folli dopo essersi unito a un gruppo di persone per cercare aiuto tra i, diciamo così, socrati sui. Un film fantastico a livello visivo. Un film che parte con una delle scene più belle degli ultimi 30 anni, cioè quella di lui che in una Londra deserta ricostruisce attraverso una musica tra l'altro bellissima, The God Black Speed and Peril, mi pare, che monta, monta sempre di più. Riesce a ricostruire appunto l'epidemia e cosa gli è successo intorno. È un film veramente avanti, un film che poi ha fatto partire un'altra sequela di film simili, ma che non raggiungono la bellezza di un film che mescola il Giorno dei Trifidi a Romero ad una visione anche forse più personale che appunto quella inglese di un Boyle, stravolta in straforma, che poi regalerà altri film molto belli di genere come Sunshine e tutto il resto, ma che secondo me con 28 giorni dopo raggiunge dei livelli altissimi. Di The Ring, come abbiamo detto, non si può parlare, è un film del 97-98, quindi non ci viene nulla, ma possiamo parlare di The Una Cata, grandissimo regista, del suo capolavoro assoluto, ovvero questo Dark Water, che poi è la storia di una donna sola insieme a una bambina, donna madre e ragazza madre, che vanno a vivere in questo palazzo fatiscente dove tutto è verde, tutto è blu, dove i colori che vivono in questo mondo sono in realtà così realistici da rendercelo così irreale, vanno a vivere in questa nuova casa, diciamo così, in questo palazzo un po' distrutto, nel quale però noi scopriamo esserci stato un omicidio di una bambina che praticamente tornerà rancorosa come Joan a cercare praticamente la madre che ha perso durante la sua morte, diciamo così. E qui è tutta la vicissitudine che ci saranno fra madre e figlia per cercare di sfuggire a questo aspetto. Fantastico il film di Nakata perché è terrorizzante, nonostante non ci sia una goccia di sangue e giochi tutto sulle pochissime musica e sui silenzi e su una regia raramente così efficace in un film horror anche orientale perché qui Nakata mette da parte gli schizzi, mette da parte i brividi facili per cercare di incentrare un'altra volta il film su un lato sociale e far capire anche un'altra volta lo spaccato di come può vivere una ragazza madre in Giappone e soprattutto di come anche siano vissuti certi rapporti interpersonali anche all'interno appunto di un palazzo. È indimenticabile tutte le volte che la guarda il soffitto e vede questa macchia di umido e schifezza che sembra distruggergli la stanza che non riesce mai a levare e che è in realtà la macchia che si porta dentro il palazzo stesso. Non mi sto a dire altro perché è un film che se non l'avete visto dovete vedere, Dark Water di Nakata. Mi raccomando, alla larga dal remake di Sels che è diventato un melodrama con due gocce di horror che non sa di un cazzo. Nel 2002 mi arrivò come a fumo in acciaio sereno nella ghigna questo film, May di Lucky McKee. Lucky McKee poi ha continuato a fare i film bellissimi e il prossimo film che si attaccherà anche a questo, così vi dico due in uno. E ne ha girati al perlomeno due fantastici che sono arrivati da noi. Uno è appunto questo May, che è la storia di questa ragazza che ha dei problemi, è molto diciamo così timida, su un posto di lavoro un po' maltrattata, che oltretutto ha anche lo sguardo un po' sbilenco, che non è bellissima e che, diciamo così, per chiudere velocemente la trama, dà di matto e cerca di ricostruire il suo corpo perfetto attraverso i pezzi di altre persone. Questa è più o meno la trama. Però il film è bellissimo perché in realtà incrocia un po' il Frankenstein con il Carrie di Stephen King, però dando un'ottica della pazzia quasi amorevole. Perché questo personaggio di questa donna, che non riesce poi a stare all'interno di una società perché la società ci vuole tutti belli e perfetti e tutti senza difetti, è splendidamente narrata da un McKee in grandissima forma, che regala appunto un film tristissimo, un film di quelli che lasciano veramente il segno, anche per lo splendido recitazione dell'attrice protagonista che non mi ricordo assolutamente chi è un'altra volta, ma che è una grande attrice, che poi ritroveremo in uno dei Master of Horror, in Sick Girl, che farà sempre Lucky McKee. Quest'attrice è fantastica e dona al spessore enorme al suo personaggio, aiutata come ho detto da una regia, da un montaggio incredibile. Lucky McKee qui dimostra già tutto il suo talento che poi verrà fuori anche nel prossimo film che vi consiglio. Il film successivo è sempre di Lucky McKee, è però del 2011 e si chiama The Woman. Ed è la storia di una famiglia borghese che vive vicino a un bosco, babbo, mamma, figliola, piccolina e fratellino che vivono nel bosco, sembrano la classica famiglia borghese tutta a modino, trovano nel bosco per puro caso in realtà questa donna che sembra non essere civilizzata, la legano in una specie di cantina e a quel punto iniziano a venire fuori tutte le magaglie di questa bellissima famiglia borghese. Il padre è un pazzo schizofrenico, la madre è peggio, il figlio pure è un po' di fuori e il film si insinua sotto pelle dello spettatore perché pur partendo molto lentamente, giustamente, dando spessore a questi caratteri che lentamente cambiano e diventano sempre più odiosi, noi piano piano inizieremo a tifare per la donna legata appunto in cantina, anche se sembra una donna aver perso ogni coscienza umana nel senso del termine puro, cioè non parla e tutto il resto. Il finale è da Briley, è un film meraviglioso che non può lasciare indifferenti, quindi in questa classifica molto veloce The Woman di Lucky McKee non può essere assolutamente lasciato da una parte perché è uno di quei film che lasciano il segno e che fanno capire un'altra volta come il talento di Lucky McKee sia ampissimo e come ogni suo film, in realtà anche minore tipo Misterio del Bosco ed altri, debba essere visto. Purtroppo alcuni suoi film come Red non sono arrivati in Italia e come ho detto in questa mia classifica parlerò solo di film usciti editi in Italia o in un video o in cinema. Il prossimo film è sempre di infetti, mi ha divertito a bestia di una coppia di registi, Rush & Dan, che poi hanno fatto Goal of the Dead che è una mezza stronzata e invece questo De Orde, ovvero La Orde del 2008 mi pare, è un film fantastico. È la storia di questi poliziotti che decidono di farsi giustizia da sola e di entrare dentro questo palazzo, diciamo così, dove c'è un gruppo di senegalesi, una banda di senegalesi che ha ucciso praticamente un amico di questi qui, di questi qui che fanno irruzione, decidono di fare irruzione per andare a vendicarsi di questi qui, oltre a fare la figura di merda, cioè quando fanno l'irruzione in realtà i gangster li fanno quasi fuori tutti e li mettono al muro, fanno subito la figura di merda. Il problema nasce sul fatto che oltre ad esserci questa cosa qui inizia era nascita un'epidemia zombifica di infetti molto simile a quella di 28 giorni per movimenti dell'infetti e tutto il resto, che naturalmente porterà i due estremi, ovvero i gangster e i poliziotti, a doversi unire per cercare di uscire da questo palazzo e cercare di sollevare la loro sorte destinata sicuramente a una morte molto veloce e crudele. Il film è bellissimo per come viene girato e messo in scena, un film anche fumettoso, anche divertente quando lui monta sulla macchina, spara, accetta, ammazza tutto, però che non nasconde un'altra volta il lato sociale e politico di una Francia che lascia queste baglie abbandonate a se stesso e soprattutto di questi poliziotti che sembrano tanto d'onore ma che in realtà sembrano più mafiosi e gangster degli gangster stessi. Un film bellissimo che tratteggia anche un personaggio, un ex mercenario di una guerra, ormai diventato vecchio, che si vorrebbe addirittura stuprare gli zombie, che è disgustoso ancora di più appunto dello zombie stesso. Poi il finale dove in realtà il gangster dimostra molta più umanità dell'ultimo sopravvissuto, diciamo così, della polizia, è grandioso, un finale che resterà spero impresso a molti per crudeltà e forza. Pascal Lagliera aveva esordito con un bel film del 2005, pari del 2004, che si chiamava San Tenge, che non è però tra i più bei film degli anni 2000, però era un bel film che mangiava fulci, molto d'atmosfera. Però ha avuto un grosso successo e Lagliera di punto in bianco decide di autoprodursi un film fantastico dal titolo Martyrs. Martyrs è la storia di una ragazza che è stata da bambina, rapita da una setta di schizzati religiosi cristiani e dal quale è riuscita però a scappare dopo essere stata torturata. Riesce a ritrovare praticamente la famiglia e il gruppo di persone che l'avevano torturata, va in questa casa, ammazza tutti, ma quando arriva lì lei viene fatta fuori e la sua amica che gli stava dando una mano a fare questa vendetta viene presa appunto da questa setta e portata al martirio. In che senso? Nel senso che questa setta vuole portare all'estremo sacrificio del corpo e della mente di ogni persona per vedere che cosa c'è dopo la morte. Come si sa i martiri, Giovanna d'Argo e tutto il resto hanno visto cosa c'è dopo. E la storia è questa, lei che viene martirizzata, un film terrificante a livello visivo, occhio per chi è di stomaco debole, perché il film passa da bruciature a spiellamenti e alle peggio cose. È un film però che non va visto nell'ottica come possono essere Oste, lo film Tortur Porn, è un film interessante, intelligente, che parla proprio della forza d'animo di una persona e della cattiveria innata di chi è incredibilmente folle per la religione e quindi integra vista per essa. E quindi Martins è un film incredibile, imperdibile ed è uno veramente dei più bei film degli anni 2000 e in questa classificozza che vale per quel che vale perché sono i miei gusti, è comunque un titolo imprescindibile a differenza di altri che magari potreste non essere d'accordo con questo, spero siamo tutti d'accordo perché è un film talmente bello che andrebbe comprato e ricomprato e rivisto 1600 volte per insegnare alle giovani generazioni come fare film a basso budget senza però dimenticare il grande cinema con la C maiuscoli. Xavier Jens, prima di perdersi nel filmaccio Hitman che girò appunto con miliardi, aveva fatto un film del 2007 bellissimo che si chiamava Frontiers, che era la storia di questi tre ragazzi, quattro ragazzi mi pare delle ballie che fanno una rapina in Francia, scappano, vanno verso l'Olanda e si rifugiano in questo ostello, ostello però gestito da un gruppo di pazzi al cui capo sta questo vecchio nazista che decide praticamente di ricontinuare a portare avanti la razza ariana facendo mescolare i propri figli con la gente che rapisce e che uccide e che tortura. Quindi un film politico anche in un certo senso dove il nazismo fa capire che questo film non è mai morto né finito ma un film approce nel senso che un po' come per Martins anche qui le torture e la violenza psicologica la fanno dal padrone. Certo è che Xavier Jens gira in una maniera perfetta anche le scene diciamo così sia iniziali, quelle di presentazione dei personaggi e non si dimentica soprattutto di dare psicologie ben definite anche ai cattivi anche se per pochi secondi noi riusciamo a capire la figlia, riusciamo a capire il figlio folle ciccione, riusciamo a capire quello che diventerà poi chiaramente il nuovo padre alla morte del vecchio e quando lui si mette alla visa nazista un film veramente a tratti delirante con un finale bellissimo come al solito fotografato da Dio e con una pioggia che raramente rende così sul grande schermo. Quindi che dire dalla Francia un altro bellissimo film appunto di Xavier Jens prima che si perdesse Hollywood girando quella merda che è Hitman. Ora io Stuart Gordon l'ho sempre amato dai tempi dell'animator e negli anni 2000 grazie alla Filmax e grazie a Yuzna che gliel'ha prodotto e soprattutto è appunto alla Filmax grande casa di produzione spagnola fonda questa Fantastic Factory e tira fuori tra i vari prodotti questo Dagon che Stuart Gordon dirige appunto nel 2001 con grandissima mano perché è un film a bassissimo costo ed è la storia di un gruppo di persone che è su una barca che si ritrova praticamente in una tempesta e che è costretta a buttarsi praticamente dentro un paesino di rivali vicino alla barca per non schiantare e che scoprono a loro volta quando appunto arrivano su questo paesino che in realtà il paesino è governato da questi uomini, mezzi uomini e mezzi pesce tutti i devoti al grande Dio Dagon che è il Dio del mare di Lovecraftiana, memoria appunto dei miti di Ktulu. Ora il film è bellissimo per atmosfera e stile, è chiaro che è un film a basso costo quindi probabilmente la gente si torcerà il naso per qualche effetto speciale un po' così e un po' così, ma è un film che ha 15-16 anni ed è uno di film che in realtà rappresenta meglio la logica Lovecraftiana della pazzia, dell'umanità, di come in realtà si cerchino cose estreme per essere contenti e felici come la ricchezza e l'oro che porteranno però in realtà grossi danni, non vi voglio dire di più perché sennò vi sputtano tutta la storia, ma il film è veramente fortissimo, è un film oltretutto che naturalmente è di produzione spagnola, che da qui in videoteca poi da me ha avuto un grande successo di cassetta e che piace soprattutto perché come ho detto le atmosfere più che il resto nonostante ci sia anche lì un par di scene veramente violente a livello di Sanu, l'espellamento del grande, il Francisco Ravallo, l'ultimo film che ha fatto e poi è morto, che fa il vecchio saggio, diciamo così, ma pazzo del paesino, sono comunque veramente ben fatti senza l'utilizzo della computer grafica, una scena terrificante, quindi Dagon è un film che per chi come me ama Lovecraft e di solito viene, come si dice, rimane male, ecco dal fatto che questi tutti i film Lovecraftiani in realtà di Lovecraft poi non abbiano altro che la patina diciamo principale, invece in questo Dagon Lovecraft vive, vive al suo interno, al suo interno della narrazione e della grandissima messa in scena di un Gordon impeccabile come al solito. Sempre per la Filmax, sempre per la produzione di Fernandez e sempre con Yuzna in produzione, stavolta è alla regia di uno dei film più assurdi che si siano visti negli anni 2000, ovvero Beyond the Reanimator, qui qualcuno dirà no cagato, ma non è una cagata un cazzo, è il terzo capitolo delle avventure del rianimatore appunto di Lovecraftiana a memoria, qui però Yuzna ambienta il tutto dentro un carcere, ormai il nostro Western, il nostro dottore pazzo che ha inventato il fluido per rianimare i morti è messo in galera, però dalla galera riesce a continuare a fare i suoi cazzo di esperimenti e a far finire fuori una serie, una specie di ribellione zombie all'interno di questa galera completamente folle. Come dicevo, il film è chiaramente, come quasi sempre per il film Yuzniani, Yuznaiani diciamo che vanno da Sea Society, che è Alienator 2, sono film, o Faust stesso, sono film che mescano quasi sempre la commedia alla peggiore idea, dell'idea proprio di come l'essere umano possa essere crudele contro i suoi simili. Ma qui cosa succede? Oltre ad essere completamente folle, ben girate e tutto, abbiamo una delle scene più deliranti che il cinema non ci abbia mai offerto, ovvero la lotta fra un pene mozzato zombie ed un ratto. Che cosa posso dire di più? Sul pene mozzato e uno zombie ratto che fanno a botte, posso chiudere appunto il consiglio di The Neon Demon, come uno dei migliori film degli anni 2000. Refn è un signor regista, è passato da tutti i generi, Drive, Palala Rising, il noir, il fantasy, l'avventura... Ma The Neon Demon, appunto del 2016, è uno dei film maggiori degli anni 2000 e va tenuto in considerazione, ed è la storia, la protagonista è l'elfanning, di questa ragazzina che decide di andare a fare un provino per una casa di moda e che viene subito presa e apprezzata da tutti come la nuova dea della moda, così dal niente, come se la bellezza fosse qualcosa di stregato, affascinante, a tal punto che nessuno li riesce a dire di no su nessuna cosa. Questo chiaramente porterà il poco apprezzamento sia delle altre modelle che delle persone che li stanno intorno all'ambiente e che incominciano a odiare. Allora, Refn decide di girare un film sulla bellezza, portando in scena appunto quasi tutte donne bellissime e consapevolmente dando la parte alle fanning che ha una bellezza talmente bambinesca, faciulesca, androgina ma perfetta in un certo senso, senza una sbavatura, che la rende idonea alla parte al 100%. Il film scorre attraverso vari generi, si passa dal dramma in realtà al film di fantascienza in un certo senso, al fantasy e da scene oniriche completamente folli, fino ad un finale crudelissimo, cattivissimo, dove la violenza viene praticamente portata all'estremo appunto dalla bellezza di Elle Fanning verso gli altri protagonisti e dove la violenza stessa però Refn decide di portare praticamente in ellisse quasi sempre fuori campo, tranne per una scena fantastica dove vomita l'occhio, poi vedrete quell'altra se lo mangia diciamo mentre una si sbudella, qui viene fatto mostrare tutto, ma non voglio dire di più, come ho detto, un video di consigli non è un video di recensioni critiche, sono consigli claramente di film che io adoro e questo Neon Demon mi è riparto subito nel cuore, me lo sono preso un brulello e l'ho già visto 5-6 volte, perché una fotografia del genere, una messa scena di quel tipo, così costruita perfettamente con una musica eccezionale che anche essa rimane perfettamente nell'orecchio dello spettatore insieme alle immagini, è di rarissima visione, ho visti pochissimi film che funzionano così tanto, certo è che Refn è uno dei talenti più importanti degli ultimi vent'anni e anche quando tocca il thriller horror come con Neon Demon dimostra tutte le sue capacità. La Greg McLean aveva già girato un bel film che si chiamava Wolf Creek, io avevo già detto ma un bel film, un bel set, un film buono, bel fatto sì, non mi aspettavo che girasse un seguito come Wolf Creek 2, che poi è la storia che prosegue, diciamo così, non realmente ma materialmente attraverso il nostro cattivo, che poi è il solito bifolco australiano, che stermina praticamente i ragazzini sulla strada dei deserti australiani che sono pieni. Questo Wolf Creek 2 però che cosa fa a differenza del primo? Se il primo era molto d'atmosfera la violenza esplodeva in 2-3 punti, questo film parte già con una botta di splatter che lascia tutti a bocca aperta, anche perché Greg Lynn, McLean riesce a girare tutto perfettamente e trova quel protagonista con quel faccione assurdo che sembra un po' di vedere un Mr. Crocodile AD che invece di essere simpatico è incazzevole e razzista perché ce l'ha con tutti, tranne che con uno australiano. Infatti sono fantastiche tutte le scene di rimbalzo con lui e il nostro, diciamo così, la nostra vittima che deve riuscire a rispondere sulle cose sull'Australia senza cercare di farlo incazzare e per cercare di non morire. Il film ha un ritmo indiavolato ed è uno dello slasher probabilmente più riuscito di tutti gli anni 2000, un film violentissimo che va visto con uno sguardo anche qui sociale e politico verso un ambiente, quello australiano, che è sì così contro natura verso gli uomini perché quei deserti sono quasi inviubili, così come contro natura umana è appunto il nostro cattivissimo protagonista che è veramente una delle figure più nere ed azzeccate del cinema horror moderno. Craig Zeller dirige un film che non posso non consigliare con Kurt Russell che si chiama Bon Tomahawk ed è un horror western, diciamo così. Se tutta la prima parte di horror è veramente poco, basterebbero gli ultimi 10 minuti per candidarlo fra uno dei film più violenti degli ultimi 20 anni per sguardo visivo e anche per scelte proprio registi. È la storia praticamente in un posto sperduto dell'America ai tempi appunto del Far West dove non c'è un cazzo in quel periodo perché le vacche sono partite quindi a un posto che diciamo vive essenzialmente in periodi dell'anno diversi dove vengono rapite delle persone e un gruppo di altre persone decide di partire per andare a trovarle e portarle a casa. Naturalmente il tutto non andrà come previsto perché gli indiani stessi, i nativi americani stessi hanno addirittura paura ad avvicinarsi a questa tribù che dovrebbe aver rapito praticamente la donna di uno del villaggio e altre persone. È un film come dicevo che vive di grandissima interpretazione perché c'è un Kurt Russell fantastico, vive soprattutto di una messa in scena eccezionale. Siamo di fronte a un film che ricorda Sergio Leone per come è messo in scena che però diciamo così non esalta mai la figura del pistolero, la figura dello sceriffo, molto realistico nella scelta dei personaggi così come è molto realistico in realtà nel finale horror, non la butta di fuori con cose esoteriche o campate in aria, anzi rimane ben saldo in terra e tutta diciamo così senza svelare troppo la scena dello scuoiamento è una delle scene più terrificanti che mi sia mai capitato di vedere, quindi quando mi capita di vedere una scena così terrificante non può essere che uno dei migliori film degli anni di odina a livello horror. Questo buon tomo che purtroppo non l'ho distribuito solo in DVD ma perlomeno l'abbiamo trovato, visto e rivisto più volte. Di Babadoc ha parlato tutto il mondo, ne parlo anch'io, ho fatto anche video sul mio canale se volete vedere, sia la recensione del film che l'ho messo tra i migliori di quell'anno. Babadoc nel 2014, Jennifer Kent, una regista australiana, la sua opera prima, racconta la storia di una madre rimasta sola perché il marito è morto quando lo portava in ospedale per partorire il figlio, che rimane da sola appunto con il figlio, con il quale ha un rapporto freddissimo e di quasi assoluta mancanza di amore, diciamo così. A un certo punto questo bambino gli chiede di raccontargli una storia e lei prende dalla libreria un libro che è appunto questo Babadoc e lei è il libro di questo uomo nero che torna a vendicarsi a uccidere e tutto il resto. Naturalmente per colpa dei sensi, probabilmente di colpa e la responsabilità della madre, questo mostro prende davvero vita e inizia davvero a cercare di far fuori sia il bambino che la madre. Questa è più o meno la trama di Babadoc. Poi che all'interno di Babadoc in realtà la regista abbia cercato di parlare di tutt'altro, cioè del rapporto in realtà crudele che una madre può avere verso un figlio, dandogli tutte le colpe della morte del padre e di come lo stesso figlio, ancora troppo piccolo per poter capire certe cose e in realtà non riesca a reagire nella maniera giusta a determinate scelte anche della madre che però durante il film diventa sempre più crudele e sempre più violenta verso appunto il piccolo. Fino al grandioso finale semipsicanalitico che nessuno ha capito con il mostro in cantina, non mi svelo dell'altro, che è una delle scene più belle e interessanti degli ultimi anni e Babadoc non è altro che uno dei film più belli appunto degli ultimi vent'anni a livello di horror e quindi non poteva che non mancare in questa grande classifica dei film migliori horror degli anni 2000 che vi dono con tutto il cuore. Ben Whitley, altro inglese, altro pazzoide, un po' come il Marshall. Ben Whitley ha girato dei bei film sempre tutti interessanti, anche a Field of England, tutti i film, però secondo me il suo capolavoro, un film meraviglioso che si avvicina molto al folklore inglese delle sette e di tutto il resto e appunto a film come Wicker Man con Cristo Fermini degli anni 70 è Kill List, mi pare del 2011. Kill List nasce dalla storia di questo ex militare che viene, praticamente non c'ha più una lira nella merda, viene chiamato da un tipo e si mettono insieme d'accordo per andare a cacciare e uccidere delle persone che hanno in lista. Questa è più o meno la trama. Ben Whitley dirige con una mano fantastica, un film che cresce, però dopo ogni omicidio, cresce sempre di più con la psicologia dei personaggi che vengono sempre più sballottati all'interno di una storia che diventa sempre più surreale e violenta. Per non dire troppo ha un finale vicinissimo a Wicker Man, un finale crudelissimo dove tutto esplode e dove i caratteri finalmente mostrano quello che sono in realtà all'interno di loro stessi. Quindi è un film eccezionale questo Kill List, sia per messa in scena che per sceneggiatura che per recitazione. Un film di altissima scuola che ha portato appunto a tutti il talento di questo Ben Whitley che poi dimostrerà anche con i film successivi come ho detto di essere uno che ci sa davvero fare. Carpent non è che ha bisogno di spiegazioni e finalmente dopo dieci anni che non giravano film gli viene messo in mano una buona sceneggiatura e dice di girare questo bellissimo The World che poi è la storia di una ragazza che da foo a nasa e che viene richiusa in un manicomio insieme ad altre ragazze con disturbi mentali ma all'interno di questo manicomio c'è questo diciamo così assassino fantomatico che le inizia a far fuori tutte una dopo l'altra. Allora il film molti l'hanno paragonato a Shutter Island per la soluzione finale ed è anche interessante, è vero probabilmente ragionarci su. Non è questo però il momento di farlo. Questo è il momento di dire perché The World è uno dei migliori film degli anni 2000. Primo perché Carpenter gira come nessun altro, basterebbe la scena iniziale, la sequenza del primo omicidio per essere già definito uno dei migliori film degli anni 2000. Poi tutto la modo di narrare di Carpenter che non vuole assolutamente regalare con lo scossone finale, con l'ultimo colpo di coda che ci sarà chiaramente alla fine del film, tutto allo spettatore. Anzi, quello che più colpisce è che già dall'inizio dove noi abbiamo dei titoli di testa magnifici, dove tutto si sgretola e viene giù come un vetro rotto, noi assistiamo in realtà a quasi tutto il film e assistiamo in realtà già alla soluzione degli eventi. Carpenter come al solito dimostra di essere uno che mette in scena le cose in maniera perfetta, unica e irripetibile. Questo reward, massacrato anche qui da molti, è un film che non è stato capito per quello che era in realtà, un ritorno di un grandissimo maestro che con due lire e pochi milioni di dollari gira un film che sembra averne molti di più e soprattutto con un'atmosfera, con una musica e con un modo, diciamo così, di girare che è unico e irripetibile. Peccato che appunto dal 2010 a ora Carpenter abbia smesso di girare i film perché nessuno li produce un cazzo. Sarebbe il caso che questi produttori muovessero il culo e facessero fare qualcosa a questi grandissimi registi messi quasi in pensione come Romero, Carpenter, Rupert e molti altri che sono costretti a girare o roba per la televisione o roba che da noi non arriva come Gina appunto di Don Buber. Che dire di più, The Warden film è da scoprire a tutti i costi come sono da scoprire tutti i film di Carpenter. James Wan è uno dei più commerciali registi di horror americani che si è uscito negli ultimi tempi, questo però non ne fa uno senza talento, anzi è partito con So che era un bel thriller, poi aveva fatto Dead Silence che era un altro bello horror e poi Dead Sentence, ma secondo me fra tutti i suoi film in Sirius e tutto il resto il film che maggiormente è più bello per questa classifica dell'anno 2000 è l'evocazione dei Conjuring, il film diciamo che introduce la coppia Warren, quella che dovrebbe nella realtà essere appunto quella che poi ha liberato MTV e altre mille case. Qui siamo in una classifica, non si perde troppo tempo a discutere, però Warren che cosa dimostra in questo film? Dimostra di avere una mano allucinante a livello tecnico. Se la storia è quella che è, insomma alla fine casa infestata con il classico demone che zeppa la mamma e che vorrebbe ammazzare tutto bene e c'è intorno, quello che colpisce alla grande di Warren è già subito dopo l'inizio della primissima sequenza, già come ci presenta la famiglia e come ci presenta la casa. Comunque è una sequenza incredibile che si sposta sinuosamente in tutte le stanze della casa fino ad arrivare a riprendere un esterno fantassico, usare lo zoom e trasportarci finalmente, diciamo così, nella nuova Hollywood, diciamo così, nel modo di girare dei grandi registi come erano appunto Carpenter, Romero, Tobu, Beru, Wes Kramer e altri grandi registi horror che faccia la ma sua, Craven è morto e che comunque non lavorano più. Con questo Reconjuring noi ci troviamo di fronte a un film che colpisce veramente a fondo, colpisce a fondo, anche perché nonostante sia basato da una storia vera, io sono ateo come un muro quindi non credo a un cazzo di queste cose, però attacca la gente al cinema basato su una storia vera, è un film che basato su una storia vera funziona veramente alla stragrande perché è Warren che con la sua grande tecnica riesce a dare sostanza a qualcosa che ha poca sostanza, la classica storia che abbiamo visto mille volte, ma come dicevo il regista secondo me e il suo sguardo fanno a volte di più delle sceneggiature che poi horror di questo tipo si assomigliano un po' tutte. Questo James Wan ha dimostrato anche con Conjuring 2, con Insidious 2 che è un bellissimo film, di essere un grande mettitore di roba in scena, un grande regista come su dirsi a livello proprio tecnico, non un autore al 100%, non è un carpenter però è inutile negare che fra questi 40-50 film che mi sto mettendo in questa classifica, De Congiure in Grevocazione non sia uno dei film che meriti di starci, quindi grande James Wan che porti avanti ancora il suo cinema e che però eviti di far girare i seguiti o Annabella o queste merdate dai suoi diciamo così adepti perché viene sempre fuori una merda, che gira le te, i film per favore perché gli altri sono degli incapaci, incredibili. Guglielmo del Toro è in grande per me, ci ho fatto la monografia, se volete guardatela sul mio canale e ha fatto nel 2015 questo bellissimo gotico ispirato alla Emery, ispirato a Argento, ispirato a Fulci, ispirato tantissimo a Mario Bama che è The Crimson Peak. The Crimson Peak è la storia più semplice del mondo, c'è una ragazza americana, si innamora di un nobile decaduto inglese che in ricerca diciamo così alla famiglia di questa ragazza di soldi per costruire una macchina per estrarre l'argilla che si innamora appunto di questo nobile e che lo sposa dopo la morte prematura del padre di lei e vanno a vivere in questo castello distrutto, diroccato, deflagrato, bellissimo il buco centrato che viene sempre nell'Ele, appunto che viene chiamato Crimson Peak. Ora il punto è che questa ragazza, ed è qui che parte la nuova horror, in realtà è in grado di vedere i fantasmi. E questa cosa però è interessante per come è messa in scena, perché non è tanto la presenza dei fantasmi la cosa che inquieta di più, ma la cosa che inquieta di più sono appunto i rapporti tra i personaggi. Come dicevo, la cosa più interessante non è tanto gli spettri che sono fatti benissimo e che è più del toro, ma è proprio i rapporti che iniziano a nascere fra la moglie e il marito e la sorella, che noi capiamo subito essere una folle completa. Il film poi ha dalla sua una messa in scena incredibile, la fotografia è meravigliosa, i costumi e le scenografie sono fantastici e tutti e tre gli attori, Mia Varlowski mi pare che si chiama, il nostro Loki, che cazzo mi sfugge sempre il nome, ma Tom Hiddleton mi pare qualcosa del genere, è bravissimo e poi c'è l'altra protagonista che fece anche la madre, un buon film della quale un'altra volta mi sfugge il nome, ma tanto poi li andrete a vedere, che è ancora più brava, un film bellissimo dall'inizio alla fine, dove Del Toro dimostra un'altra volta di avere una mano incredibile per ogni cosa che tocca, che sia Mimico, sia Pacific Rim o sia Hellboy, riesce sempre a trasmettere il suo modo di porre la storia davanti allo spettatore, un modo sempre forte, intrigante e dotato di una qualità estetica di rarissima visione, soprattutto nell'horror moderno, ormai quasi tutto girato con le telecamere a mano e di storie ormai tutte simili a se stesse, con ragazzine che vengono possedute da chissà quale demone e che alla fine vengono decossedute, chissà in quale motivo e in quale modo, sempre simile comunque a quello dell'esorcista, quindi di Crimson Peak non può che essere un film meraviglioso e non può che essere quindi dentro questa classifica. Altro film magnifico che va di diritto, uscito nel 2014, ma è arrivato da noi in pochissimi cinema nel 2016, di questa Ana Letta Lily Amirpour, del quale ho già parlato del meglio del peggio sul mio canale, ma che devo mettere per forza anche in questo classifica dei migliori film dell'année 2000, per questo A Girls' World's Alone at Night, mi pare si chiama così il titolo, di produzione americana, nonostante la regista sia mi pare iraniana di provenienza, diciamo così, e poi in realtà inglese come cittadinanza mi pare, prodotto dall'americana e alla storia incredibile di questa vampira che di notte con il suo semiburca se ne va a giro per la notte a ammazzare uomini di merda come stupratori o gente che picchia le donne e via dicendo, e che ha nel suo cosmo, diciamo nel suo microcosmo di questa cittadina, di questo Iran fotografato in maniera sempre cupissima, del quale scopriamo mano a mano le sue bellezze, le sue parti più orribili anche a livello esterico. La regista riesce in un bianco e nero fantastico a fotografare questo Iran quasi surreale, completamente destrutturato quasi dall'Iran reale, nel quale si muove però, diciamo così, il suo che diventerà così amore, che è un ragazzo in realtà che ha un padre tossicodipendente, che è quindi invecchiato in cose più grosse di lui per cercare appunto di tenere il suo il padre, e in più ci troveremo la storia di un bambino, di una famiglia, è un film che parla anche di questo microcosmo di persone, nel quale però gira appunto questa vampira, questa vampira fantastica che in una scena per esempio meravigliosa prende il bambino e gli dice, oh guarda ricresce bene, non fa casino le donne, non fare un cazzo perché poi ti vengo a cercare. Una scena terrificante, in più gli ruba lo skate e vedere poi in realtà questa vampira che va sullo skate un po' anche in maniera poco pratica, perché probabilmente non l'ha mai utilizzato, diventa anche esilarante, quindi che dire, la regista riesce, nonostante sia giovanissima, a unire il dramma sociale, un po' di commedia all'horror puro in un film indimenticabile. È del 2014 anche questo, è arrivato da noi in sala del 2016, ho messo anche questo nel meglio dell'anno scorso, ed è It Follows, un film di David Robert Mitchell, è un film bellissimo, è la storia di una ragazza in una cittadina in prima provincia che va con un ragazzo al cinema, fanno sesso e tutto il resto, sembra una cosa normalissima, solo che poi viene cloroformizzata, legata ad una sedia e questo ragazzo gli spiega che ora le ha attaccato a una maledizione e che lei deve fare sesso il più velocemente possibile prima di essere raggiunto da un'entità che la seguirà sempre fino a essere a toccarla e a ucciderla, e a quel punto se ucciderà lei, ucciderà anche tutti gli altri, piano piano, andando a ritroso di questa maledizione, quindi questo ragazzo spaventatissimo gli dice vai e trova da trombare il zucco e questo. Il film è bellissimo perché noi ci troviamo, è ambientato nei nostri tempi, ma ci troviamo in un mondo quasi estranizzato dalla tecnologia per esempio, dove gli umani adulti quasi non esistono, esistono in questo paese che si capisce essere distrutto dalla economia ormai devastata americana dei piccoli centri, ormai massacrata dai grandissimi supermercati, per mercati dove tutti si ritrovano. Infatti è un film di solitudine, un film che parla dell'adolescenza americana in maniera crudele attraverso poi questi mostri che non sono mai il solito, non è che ti segui sempre il solito mostriciato, la cosa terribile è che ti può seguire tua madre, ti può seguire una ragazzina, ti può seguire un gigante di due metri, poi ti può seguire un ciccione, quindi non sai a volte se ti sta seguendo o no, quindi tutte le inquadrature ogni volta che si girano sta seguendo me, no sta seguendo me. Dicevo è un film tesissimo che lascia proprio sconcertati per come come una piccola gay con pochissimi mezzi e dei bellissimi attori giovani, bravi e in parte perfettamente riesca a raccontare un horror, un horror senza una goccia di sangue che spaventa fino alla fine, fino a un finale meraviglioso che non vi sto a spiegare perché come ho detto questa è una classifica. Scott Derrickson, ora è passata mi pare a dirigere Dottor Strange, anche lui è lanciatissimo, però il suo film migliore secondo me resta questo Sinister. Sinister del 2012 con il protagonista Ethan Hawke è la storia di uno scrittore che scrive, diciamo così, di storia di cronaca nera, fa libri, che si trasferisce in una casa dove è stata uccisa tutta una famiglia per scrivere il suo nuovo libro e questo lo fa senza dire niente alla moglie e ai figli che vivono con lui. Mentre gli scopre una scatola con all'interno dei super 8, dei filmati, questi filmati mostrano praticamente le geste appunto di un assassino che ammazza famiglie in maniera diversa, quelle tutte affogate, alcune impiccate, alcune sgozzate e lui piano piano che si avvicina sempre di più alla visione di questi filmati, si rende conto che all'interno di questi filmati appare sempre una specie di demone che poi chiaramente farà il suo lavoro anche con Ethan Hawke stesso e la sua bella famigliore. Non voglio dire di più come ho detto perché questa è una classifica, ma il film è girato veramente di lusso, un film tesissimo, peccato che il sequel non sia assolutamente all'altezza, Sinister 2 sia un filmetto come un altro, ma questo Sinister aveva proprio dalla sua una angosciante e pressante tensione che parte sin dai subito nei primi 10 minuti e che cresce sempre di più il ritmo fino al bellissimo e devastante finale. Un film che mette un'altra volta e mostra le grandi doti di Ethan Hawke che poi farà anche la notte del giudizio e altri film che sembra ormai destinato a fare horror di serie B, per l'oggio di tutti noi qui perché è un bell'attore ed è giusto vedere una produzione come questa. E dicevo questo Sinister è uno dei film che mi ha colpito di più e che rimane sicuramente non è un capolavoro ma rimane sicuramente tra i migliori film degli anni 2000 nel suo genere, ovvero l'horror. Kevin Smith è quello di Clerks, solitamente fa commedie, fa commedie, fa commedie, invece preso dal giramento di coglioni perché l'Hollywood l'aveva succhiato con film come Poliziotti fuori in cerca di... non mi ricordo un altro filmaccio con Jennifer Lopez e Ben Affleck del quale non voglio anche nemmeno ricordarmi il nome, era andato fuori di testa, non voleva più girare i film e poi ha scritto questa sceneggiatura folle, ovvero questo Task, che mi metto di molto fra i migliori film degli anni 2000 e è la storia di un ragazzo che lavora per un blog insieme ad un altro ragazzo che viene spedito in una cittadina per un caso strano di uno che si era tagliato con una motosega e che poi è morto motosegando in sé stesso, non avendo più appunto questo caso perché il ragazzo è morto lui decide di andare a intervistare un tipo che sembrerebbe avere una storia interessante sulla sua vita e sulla guerra che ha affrontato. Il punto è che questo è un folle che siccome è stato salvato diciamo così da un trichecone, da un task, decide di trasformare proprio chirurgicamente il suo intervistatore in un trichecone umano. Ora detto così sembra quasi un film da vedere, in effetti è un film grottesco, surreale, ma di una tristezza incredibile. Tutta la prima parte è giocata su dei dialoghi fantastici perché Smith sa scrivere benissimo, invece tutta la seconda parte il film diventa veramente un horror, diventa di una crudeltà immane, fino a un finale che fa quasi strappare il cuore per quanto è crudele e allo stesso momento grottesco e surreale far ridere un film completamente di fuori. Basterebbe se comprate il DVD leggere e sentire come cosa dicono nel commento a Kevin Smith e l'altro suo amico sceneggiatore, ridono quasi tutto il film quando non c'è quasi niente da ridere. Un film comunque incredibile di un Kevin Smith fortunatamente rinato. I film che parlano di metacinema, metahorror man, ce n'è una palla, però ce n'è uno stato, uno uscito nel 2012 che è impossibile non ricordare, il Drew Goddard, The Cabin in the Woods, ovvero quella casa in fondo al bosco. È la storia di questo gruppo di ragazzi, il classico eterogeneo da film horror, il bellone sportivo, il classico di colore intelligente, la fia buona bionda, la ragazzina un po' timida, il fumato, sì che decino di andare a fare una ribotta in questo appunto casa nel bosco del cugino di uno dei due. Il punto è che in realtà noi scopriamo che tutto questo è una macchinazione fatta appunto dallo stato, proprio dal mondo, per far diventare questi ragazzi delle vittime da sacrificare a dei vecchi dèi per non farli incazzare e non farli distruggere il mondo. Quindi una trama completamente folle. E noi scopriamo appunto che vanno a vivere, vanno in questo bosco dove non possono scappare perché sono circolati da una cupola assurda e dove scopriamo che ognuno di loro dovrà fare la parte che gli è stata data per poter non fare incazzare gli dèi. Per capirsi la bionda che diventa bionda e scema nel film, in realtà noi vediamo che all'inizio del film è intelligentissima e che piano piano diventa sempre più scema grazie a degli ingeni che usano appunto queste all'interno di una base quasi fantascientifica dove ci sono scommesse su chi vincerà, chi i mostri li ucciderà e tutto il resto. Un film assurdo questa casa in fondo al bosco, girato benissimo, con un ritmo spettacolare e che alla fine oltretutto non solo ha divertito per la prima parte, la prima ora, ore e dieci dove loro si trovano a combattere con una famiglia di zombie, ma alla fine esplode e fa scoppiare tutti i mostri praticamente del mondo che noi ci troviamo riversati su uno schermo che viene riempito di gore e splatter e dove troviamo alla fine anche un grande cameo di una sequel movie fantastica, quindi che dire di più di questo bellissimo film che è The Cabin in the Woods. Jim Mikkel è un regista bomba, ha fatto What Siamo Quello Che Siamo, un film sul cannibalismo in realtà, ha fatto Cold in July che è un nuore incredibile, ma il primo film che mi sento di consigliare a tutti i costi è del 2010, si chiama Stake Land, è un post atomico assurdo con i vampiri all'interno, un film particolare dove noi troviamo il protagonista che come ragazzi non deve riuscire a resistere a questa apocalisse zombifica vampirica, questa è la trama di tutto. Quello che colpisce di John Mikkel è proprio come lui gira, come mette in scena, un film con stradrelline che in realtà ha dalla sua una fotografia fantastica che sembra fatta con chi si sa quali mezzi e soprattutto una forma e una sostanza che si uniscono perfettamente riuscendo a far paura ma a fare anche a pensare a quanto l'essere umano comunque sia crudere, a quanto la sua crudeltà sia riversata anche sui mostri stessi. Un film bellissimo, cupissimo, che dava già appunto l'idea di come questo Mikkel poi diventerà ancora forse migliore in un film come Cold in July che è quasi un capolavoro del noir, ma questo è uno degli orari insieme a Pontypool indipendentissimi americani che mi sento alla grande di consigliare perché l'hanno visto veramente in pochi e perché secondo me merita di essere visto, visionato e revisionato da chi magari non l'ha apprezzato in una prima istanza. Quindi che dire, Stake Land è un film assolutamente da non perdere. Come ho detto nel video precedente qui per Film is Now, fra i film che attendono i più breed della Kusama, lo attendo appunto perché avevo citato The Invitation, questo film che metto fra i migliori degli anni 2000 e che purtroppo non è arrivato al cinema, ma fortunatamente Lady Midnight Factory ce l'ha fatto arrivare in DVD. È la storia di un gruppo di persone che si ritrova a cena in una casa, tra questo gruppo di persone ci sono un ex marito e un ex moglie che non si vedono da anni, che hanno perso, si capisce, un bambino, ci sono per questo divisi e che incredibilmente vengono riuniti in questa cena perché invitati appunto da lei e dal suo nuovo uomo nella vecchia casa in cui il nostro, diciamo così, marito abitava. E in più vengono invitati altri amici, quindi questo gruppo di persone si trova a fare una cena normalissima. Il problema è che dopo un po' questi che stavano tutti allegri, tutti a modino, tutti un po' sopra le righe, diciamo, incominciano a dire che fanno parte di una setta che idolatra, diciamo così, un santone che idolatra la morte come liberazione totale. Allora, questa è la trama, non vi voglio dire altro perché The Invitation non l'hanno visto in molti. È un film che deve, secondo me, tantissimo alle atmosfere polanschiane, un film che non mostra quasi nulla ma che negli ultimi 20 minuti esplode in una ferocia incredibile. Tutti gli attori sono bravissimi. La regia della Kusama è pacatissima, è perfetta, anche perché fa credere che possa essere il marito che poi esplode, non dà subito idea di cosa succederà. È da uno dei finali più sconcertanti, secondo me, degli ultimi anni, bellissimo, che rimane appunto impresso nello spettatore. Un film girato alla stragrande, da questa Kusama, che dimostra delle doti che io dopo Anon Flax credevo non potesse assolutamente avere. Anche Jennifer's Body era un filmetto girato benino, ma senza la potenza di questo appunto The Invitation, che per me resta uno dei thriller roller più belli degli anni 2000, forse anche degli ultimi 30 anni. Un'esperienza unica, un film da vedere e rivedere e da tenere lì, perché è un gioiello di quelli rari, magari non un diamante, magari un po' grezzo, però sicuramente vale tantissimo. Quindi un film da recuperare assolutamente per i migliori degli anni 2000 è questo The Invitation. Per ultimo mi sono tenuto The Witch, non tanto perché sia il più bello, probabilmente uno tra i più belli, ma perché è di poco tempo fa, è di questo Robert Eggers, che si spera faccia un altro filmone come questo, ed è la storia nel 1614 di una famiglia che ha a capo un padre schizzatissimo, super religioso, che viene mandata via da questa cittadina di padri pellegrini protestanti, perché troppo appunto religioso e troppo schizzato. La famiglia di questo qui è composto da lui, dalla moglie, da un figlio sui 10 anni, una ragazzina sui 16-17 anni adolescente, due gemellini e un neonato, un bambino di pochi mesi, che decidono appunto di andare a vivere in mezzo al niente, in mezzo a questo bosco, di coltivazioni e di caccia. Però non riescono a cacciare un cazzo e tutto quello che coltivano è marcio. Cosa succede però all'inizio del film? E poi non dico altro. Mentre la bambina, se lì che culla e gioca con il bambino, il bambino scompare il neonato. E noi vediamo nella scena successiva che c'è qualcuno, qualcosa nel bosco che lo sbriciola e se lo spalma tutto addosso. Di più non vi voglio dire, da questo parte tutta la situazione della storia. Eggerts dirige un film allucinante, che per me sencena è vicinissimo a Bergman, più che in realtà all'Oreo il moderno, è vicinissimo anche qui a Polanski, è vicino anche per certe scelte allo Shire a Man di The Village, nonostante non ci conviglio in cazzo, a livello di un 2-3 riprese. Un film che vive di pochissimi movimenti di macchina e che vive di personaggi come quello del Caprone, incredibili e inquietanti. Un film che inquieta anche per i rapporti che si installano tra i personaggi, perché nessuno di questi personaggi in realtà è quello che sembra essere di prima vista. Ognuno cerca di dare la colpa, proprio la colpa religiosa all'altro per cercare di liberarsi dalle proprie. Il padre che in realtà è un bugiardo cerca di raccontare sempre la sua verità ai figli. La madre completamente impazzisce, va fuori di testa e vede il male ovunque dopo che scompare il bambino. I due bambini anche più piccoli, diciamo così, vanno di fuori di testa e cercano di incolpare la ragazzina di 15-16 anni di essere lei una strega che si stessa aveva incolpato per levarsi dai coglioni, i due bambini che gli rompevano i coglioni per cercare di fargli paura. Quindi un film completamente astratto in questo senso, un horror dell'animo, un horror che viaggia per strati, che non colpisce sicuramente per il ritmo iberveloce o sull'upercazzuto che va di questi tempi. Anzi, che proprio per la sua messa in scena così bergmaniana, così pulita e così nordica, riesce ad essere pregno di 2.000 chiavi di lettura e sotto testi. Essendo questa una classifica, non è che ne posso parlare di più, se no dura 64 minuti per film e video. Ma assolutamente chiudo i migliori horror degli anni 2000 con questo The Witch di Robert Taggart, del quale aspetto assolutamente il prossimo lavoro, che sia un horror, una comedia, non me ne frega un cazzo, perché questo dimostra un talento visivo e non solo, di rarissima qualità. Non si trova così facile un giro con un regista che riesce a mettere in scena un film che unisce così in forma e sostanza, lasciando almeno me a bocca aperta con un finale a dir poco allucinante e meraviglioso. Passiamo ai trovieri. E iniziamo con i più, secondo me, brutti film degli anni 2000. Certo ce ne sarebbero a bizzue che ne dovrei fare 200, però ho scelto quelli primi che mi sono venuti in mente. Il primo si intitola Adam and Evil ed è del 2004 e di un certo Andrew Vansley, che si dovrebbe vergognare di aver messo in scena la storia di quattro ragazzi che vanno nel classio boschetto a fare i cazzi loro e che vengono chiaramente ammazzati uno dopo l'altro dal classio mostro di turno. Peccato che il film sia una cagata immonda, cioè la regia e la fotografia sono inesistenti, la storia è da pedate in bocca, la regia è qualcosa di inconcepibile negli anni 2000 e in più gli attori sono totalmente incapaci, un film che non funziona su niente, di una noia mortale, che fa schifo in tutte le sue piccole forme e non riesce a trovare nemmeno quei cinque secondi, quel guizzo. Niente, il guizzo unico che esiste nel film è quando finalmente parte regia di, non tanto perché ha scoperto chi è regista, ma perché vuol dire che il film è definitivamente finito e ce lo siamo tolti tra le palle. Allora, un altro vero troiaione del 2000, diretto dal direttore della fotografia di Spielberg, un grandissimo direttore della fotografia, ovvero Jan Sekaminski, è Lost Souls, da profezia, un film allucinante, la storia è la più scema del mondo, Maya, che poi è Winona Ryder, è stata posseduta dal demonio, poi il demonio è scappato e però lavora un po' così, diciamo così, va dietro a quelli che sembrano essere posseduti, va dietro appunto a questo scrittore new yorkese che sembra essere possedutissimo, anzi più che da un demone qualsiasi, proprio da Satana in persona. Questa è la storia, è lei che cerca di liberare lui da questa possessione demonica. Il film è delirante, c'ha una fotografia che un direttore della fotografia non si dovrebbe permettere mai nemmeno di pensare, è tutta bruciata, tutta gialla e nera, fa schifo, non c'è un minimo, minimo proprio di senza dell'orrore. Ogni tre secondi parte qualcosa che diventa senza volere ironico, ci viene da ridere in una maniera incredibile, un film trash allucinante che si prende sul serissimo, anche quando poi appaiano i 666 scritti sulle radio o sull'orologio, roba che fa rimpiangere addirittura l'esorcismo di Emily Rose e filmetti inutili che ci perseguitano da sempre, ma questo non solo, è un film fatto con milioni, vero, un film che doveva l'ostro, solo prolezia, che dal trailer sembrava chissà cosa fosse e che invece è risultato semplicemente un classio muffin che manco è gonfiato, una merda, una cosa immangiable, impossibile buttarle giù, uno dei film più brutti che mi sia mai capitato di vedere senza ritmo, senza senzione, senza sangue e senza nulla. L'unica cosa, come ho detto, che c'è è che almeno finisce e non ci sono stati di sequel tra i coglioni. Un altro film inguardabile degli anni 2000 è Soul Survivor, diretto da questo Stephen Carpenter, che di Carpenter c'è solo l'omonimia del cognome, è la storia di questo gruppo di ragazzi che prima ad andare in college una sega in un'altra vanno a fare questo super rave party, al ritorno fuori di testa fanno un incidente, il ragazzo della protagonista muore e gli altri invece rimangono vivi, solo che la protagonista inizia a avere dei flash del suo ragazzo, inizia a vedere lo spettro e tutto il resto e quindi vuole scoprire cosa è successo. Ora non vi sto a dire il finale perché non si dice mai nemmeno i film brutti, ma un film sì è roba veramente da cassà solo per l'idea di partenza, non si può guardare. Un film delirante, dopo 5 minuti capisci già come dove va a parare, lentissimo, senza una scena che faccia paura, con una regia a dir poco televisiva, con degli attori spentissimi che sembrano che passino avanti alla macchina da presa perché hanno inciampato un sasso prima, senza nessuna cura nei dettagli, un montaggio sfasatissimo, scavalcamenti di campo, un troiaio in mare che si fa ricordare esclusivamente per una delle fotografie più brutte che si siano viste e soprattutto perché c'ha uno dei finali più idioti che l'universo, sia parallelo che il nostro, visto che parliamo di fantascienza horror, riesca mai a concepire. Un film delirante, come gli altri due che vi ho detto prima, inguardabile, che forse a qualcuno sarà anche garbato, ma che per me resta veramente una spila infilata nel culo. Stephen Somers aveva già fatto dei discreti dammi dirigendo il remake della Bummia, però l'aveva buttato il remake della Bummia su una cosa da Indiana Jones, invece si poteva anche stare abbastanza ironico. Nel 2004 lo decide di girare un film per l'universal che si chiama Van Helsing, con Hugh Jackman che fa il Van Helsing, cioè il miscasting più grosso del mondo. Lui che fa il Van Helsing era un po' come se io facessi il prete prediatore o San Francesco in un film, più o meno, e sarei credibile come lui. E alla storia appunto di questo Van Helsing, che è il cacciatore bomba di tutti i mostri dell'universo, troviamo un Jekyll e Hyde più squallido o mai visto nella storia del cinema, un Dracula inconcepibile, un Frankenstein da seggio la tenuto, e in questo purpurrì di mostri allucinanti c'è una Kate Beckins, che è sempre da trombare perché bisogna dirlo, che però fa un personaggio odioso in questa storia appunto di questo Van Helsing che va in questo villaggino dove ci sono vampiri su vampiri, mostri che l'attacca e tutto il resto e che lui sconfiggerà con l'aiuto appunto di Kate Beckins e dei suoi grandi poteri. Un film orripilante che viene fatto mangiare dagli effetti speciali al computer che fanno cagare oltretutto, che dura uno sbotto, che sembra non passare mai, dove l'azione naturalmente mangia l'orrore, ma è un'azione che nemmeno diverte, è un'azione che fa pensare, ma qui stiamo toccando dei classici dell'attratura come il Dracula e il Frankenstein e li riduciamo semplicemente a dei fumetti odiosi e imbecilli per gente che sta tutto il giorno giù davanti ai videogiochi e che non ha in realtà idea di come si concepisca la tensione e l'olore e per questo sarebbe il caso che un po' di gente si riguardasse un bel po' di film edifico che prima di iniziare a ragionare, perché questo Van Helsing di Steven Somers che qualcosa di bellino aveva anche fatto in carriera è veramente uno degli obrobi, più obrobi che il mondo ha marchiato insieme a quel cesso, e lo metto accanto qui anche su un lato messo in lista, di I Frankenstein e di Dracula Untold. Questi tre insieme fanno una sequela di distruzione dei mostri dell'universa che raramente si era vista sullo grande schermo, una vera serie di merde incredibili. Questo film, girato in coppia da due registi incompetenti dei quali non voglio nemmeno ricordare il nome, è del 2007 e si chiama Catacombs, è la storia di Vista Virginia, ragazza americana che decide di andare a Parigi, così nonostante sia le pressi di fuori portata da una sua amica e quando sono a Parigi scoprono una cosa più figura da fare a Parigi, che è una città meravigliosa dove c'è da fare di tutto, è quella di andare a fare un bel rave nelle catacombe, diciamo così. Mentre sono lì che raveggiano, ballano e fanno tutte le loro cazzate, arriva alla cula e questi si disperdono e chiaramente lei si perde nelle catacombe. Allora, il film è una merda di quelle incredibili. Allora, vorrebbe essere un horror e invece alla fine risulta un drammatico di spentissima qualità. Il colpo di scena finale è intuibile dopo 40 secondi, la regia è da dilettanti e oltretutto più che far paura il film è veramente una risata continua perché la protagonista è Will Coyote senza nemmeno saperlo. Chi gli sta intorno ha più o meno il livello celebrale di una persona di 6-7 anni, anche se ne hanno 20-30. Il tutto è condito da una fotografia talmente scura che non si riesce a capire un cazzo, senza poi lasciare da parte il fatto che la storia è di un'idiozia assoluta. Chi è che è americano, scappa dalle catacombe per non essere arrestato la polizia che si rischia, ma ne è bloccato nel nulla. Ti fa arrestare dalla cula, tanto se è Raven non è che stavi lì a mettere la bomba, non è che sei dell'Isis, non è che sei brigate rossi, se uno che era un riva, il massimo che ti possano fa è portarti via. Oltretutto mi sa che arrestano più quelli che l'hanno fatto, un film delirante, orribile, tra quelli più brutti che abbia mai visto e che pure ha funzionato anche tra dei clienti. Boh, ormai probabilmente il mondo sta per finire, io non me ne sono ancora accorto. Purtroppo, nonostante Rampage, Assault of Wall Street, Rampage 2 di Uwe Bolle, poi siano diventati dei film, Uwe Bolle era veramente una sola. E ha girato due dei film più brutti di quegli anni lì, horror. Uno è La lona in the dark, del quale vogliono parlare con Christian Slater in canotta, che è una delle cose più brutte mai viste, talmente trash in questa storia di caccia a questi demoni, dove lui è quasi un supereroe, è una cosa inconcepibile per come è girato, come è fotografato, talmente brutto, che però non riesce a essere così brutto come il film del 2003 tratto dal videogioco House of the Dead, sempre di Uwe Bolle, un film talmente fetente del quale non ci si crede. La storia è la riviste lì che vanno sull'isola, le fa la ribotta e poi arrivano gli zombie, che è tutto sull'isola, gente scappa e zombie le rincorano, fatti di merda come zombie, girato da schifo, con in più inserti in CGI, proprio tratti dal giochino che non si possano guardare. Uno dei film di zombie, come ho detto, più brutti, che mi siano capitati di vedere, che ne manco belli italiani fatto in 30 euro sono così brutti Uwe Bolle, poi è anche riuscito a produrre dei film di zombie inconcepibili, ma questo House of the Dead, porca puttana, è veramente inguardabile e quello che più mi dispiace è che la gente è riuscito pure a vederlo e gli ha dato anche del successo al cinema, ma resta il fatto che il film è talmente brutto, ridicolo e senza un senso che potrebbe essere annoverato fra i maggiori film demenziali della storia del cinema, fra Frankenstein Jr., e per favore non mordemi sul collo, peccato che le intenzioni del regista non erano proprio quelle di far ridere. Ole Bordelal era anche un buon regista, un regista mi pare danese, non mi ricordo più di dove era, norvegese, insomma, regista del nord Europa, che aveva solo il titolo con un film che si chiamava Nightwatch, che era un bellissimo film, del quale gli fecero fare il remake, che era un troiaio negli anni 90, anche quello come tutti i remake. Dirige questo film, The Possession, nel 2012, che è praticamente, posso anche concludere qui, l'esorcista ebraico. È la storia di questa ragazzina che apre una scatoletta, i falene ne entrano dentro, quindi Satana è in corpo e quindi il padre decide di rivolgersi agli ebrei per scacciare questo mostro del demone ebraico. Naturalmente, diciamo così, questi capoccia ebraici totali, pretoni, non lo cano nemmeno, ma il pretino più giovane decide di dargli una mano e butta praticamente la sua esperienza da esorcista per liberare questa ragazzetta. Questa è la storia del cinema, è la storia del film, quindi in realtà è la storia dell'esorcista, solo che invece è il prete di Mary, che c'è semplicemente l'ebreo, che ogni tre secondi va, 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 film inconcepibile. Tra l'altro la scena più ridicola del mondo è quando lei va a fare le classiche visite mediche come queste rubate dall'esorcista, dove noi vediamo che gli fanno praticamente una specie di lastra al petto e noi vediamo che nella lastra c'è la faccia del demone, cioè i demoni sono percepibili, quindi se gli fai una bella lastra al corpo. Una delle scene più delicane, non smettevo più di ridere, anche perché i dottori dopo un'ecchia di Anagliossi ha visto un demone nel corpo, cos'è successo? Li fanno calzetti, ma te ne fai, nemmeno c'è una frase, è uno dei film più stupidi che abbia mai visto. È un peccato perché Borden in realtà la fotografia della regia la saprebbe anche fa, ma una cosa scritta o sì, non l'avrebbe salvata nemmeno Orson Welles, anzi Orson Welles probabilmente avrebbe cagato sul copione, avrebbe detto andate di una fanculo voi in The Possession. Questo The Remaining del 2010 mi pare, diretto da Casey La Scala, è uno dei film più brutti che l'universo conosca, è simile anche per tematiche a quale si chiamava Codice Omega e soprattutto a Left Behind la profezia con Nicolas Cage, altra merda incredibile. Qui è la storia di questo gruppo di amici che ha un matrimonio, ma durante il matrimonio iniziano a verificarsi strani eventi, tutti ricollegabili a delle profezie bibliche sull'Armageddon. Quindi questo gruppo di amici decide di cercare di salvarsi per non essere ammazzato appunto dall'Armageddon stesso. Ora, già l'idea di base è talmente stupida, come ti salvi dall'Armageddon? Cioè, è l'Armageddon, che cazzo dici? Ammazzano tutte le anime che devono in Sparadiso, scompaiono come Arzolid e quell'altra che devono combattere per mille o duemila anni, quanto cazzo è scritto nelle profezie contro il demone e l'inferno sulla terra. Al di là di tutto questo, questo è uno di quei classici film Basha Pile, insopportabili, probabilmente pagati dalla chiesa ortodossa iper di destra americana, tanto mica di Trump, perché è un film talmente scemo che ti mette un po' come Let's Behind l'idea che te devi seguire perfettamente ogni linea guida, come se fosse quelle linee guida che ti danno mando sali sull'aereo, che se casca l'aereo mettiti le uffi, mettiti il coso, tento per girarti, rigida, ti sembra di essere di fronte al film come? Come salvarsi l'anima se arriva l'Armageddon. Ora, il problema è che forse io sono nato bastardo, ma questo film è di una lentezza allucinante. I personaggi sono tutti insopportabili e il finale è veramente stupido, ma di uno stupido che non si può guardare. Inoltre vorrebbe lasciare aperta la cosa, ma meno male è rimasta di molto noiosa, perché nessuno ha avuto l'idea di fare dei Remain 2, perché se dei Remain 1 mi sono fatto fotte e me lo sono guardato, con dei Remain 2 probabilmente che avrei dovuto comprare per la videoteca perché la gente guarda di tutto, avrei trovato una volta finito di guardarlo qui videoteca e averlo usato, un grandissimo piano per tenere in bolla l'asta con la quale stiamo facendo questa ripresa, perché non vedo altro motivo di esistere di quel DVD se non quello di essere usato o come sottobicchiere o come piattello per il tiro con l'arco, oppure semplicemente per essere distrutto in quanto male e puro. È il 2010, esce ESP, fenomeni paranormali, del quale esce anche un 2 inconcepibile. ESP sarebbe il titolo di questo programma televisivo all'interno del film, nel quale un gruppo di persone va nei posti rinchiusi classici a scoprire i fantasmi. Il regista di questo programma ha l'intelligente idea di farsi rinchiudere in un posto che sembra infestatissimo dai fantasmi, naturalmente quando ci entra dentro cosa succede? Un riesco a uscire e magari a sterminare uno dopo l'arco. Quello che questi The Bicious Brothers, si fanno chiamare così, girano, è in realtà una pacottiglia a mockumentare di quelle peggiori, le quali ci butto dentro un po' tutto, ci va un po' di satanismo, un po' di fantasmi, un po' di velo, un po' di vell'altro. Il problema è che come al solito, nel film horror che cos'è la prima cosa che deve fare un film horror? Fare paura o lasciare perlomeno alla sua fine un senso di incompletezza umana da potersi sentire spaventati anche dal solo uscire di casa. Questo film invece riesce a spaventare anche solo l'idea di essere visto. Non tanto perché fa paura, ma perché è talmente brutto che anche qui cascano le braccia per come nessuno abbia detto al regista, che cazzo stai e girà, ma non te ne rendi oltre che questa roba lì nemmeno se la mandi sul real time e la mettano in onda. E invece, incredibile ma vero, il mondo gira al contrario e questo espo, come ho detto, ha avuto pure un 2 e ha avuto pure successo. Ma rimane uno dei film più inguardabili del mondo, la regia fa cagare, la fotografia è inconcepibile. La macchina che rimbalza ti fa rinvenire il giramento di coglioni dopo 5 minuti e, soprattutto, non se ne pole assolutamente più di questa gente va a rinchiudersi in un posto, arriva il fantasmino e gli stermina tutto. Fateva un cos'altro perché ci avete veramente rotto il cazzo. È del 2014, si intitola Unfriended, di Vesto Gabriazde, il regista. È un film di merda, è un film che per tutta la sua durata è semplicemente un'inquadratura su uno schermo di computer dove degli amici parlano su Skype e poi si rendono conto che tramite appunto Skype stesso e la rete vengono demonizzati da uno spettro che poi si scoprirà perché è vendicativo verso di loro e inizia a farli fuori tutto. Ora, tutti hanno detto, ma questo è il primo film di inquadratura, non è vero un cazzo, c'era un film che si chiamava Tomain Lobb che era identico negli anni 90, che era tutto basato su un'inquadratura sullo schermo ma che era molto più interessante. Qui la noia regna sovrana, non più, c'è messaggini, devi leggere la chat, devi fare quell'altro, sembra di essere rincoglioniti. Il film al tempo di internet, se deve essere questo, per favore cancellate il film e cancellate internet, perché non si può guardare una merda come Unfriended. Se Unfriended è questo, era un filmaggio ma comunque guardabile sempre sullo solito stile dell'altranno. Questo Unfriended, proprio, che vuol dire, cancellato dall'amicizia, è proprio un film che viene Unfriended da chi lo guarda. Cioè, quando uno lo guarda e si mette nell'idea della coscienza di guardare un'ora e venti di schermo di computer su Maxity, perché stanno andando a pure al cima, su uno schermo gigantesco, avevi speso anche 10 euro per guardare uno schermo di computer, ripeto, con roba che si apre e si chiude, gente e more negli schermini di 22 centimetri, ti prende i brividi. Ma i brividi perché? Perché c'è qualcuno che lo ha addirittura pensato e, soprattutto, i brividi più grossi è che c'è soprattutto un pubblico che lo ha premiato con dei buoni incassi. Quindi, che dire di più di una merda come Unfriended. Speriamo che chi ha girato questo film passi subito a fare qualcos'altro nella vita, vendere lupini, c'è il suo zucchero ferrato a una parche, c'è la possibilità di essere mangiato da una tigre, c'è la possibilità di fare qualsiasi cosa nella vita, ma vi prego che questi vicious brother teneteli lontani dalla macchina da presa, perché sono l'Ebola. Altro film inconcepibile, che dopo Long Time Dead, che aveva rubato spiritica, abbiamo trovato questo Ouija nel 2014, diretto a due manga, a questo Styles & White, è la storia classica di questi ragazzi che giovano con la tavoletta Ouija, rivediamo e l'ammazza tutti, ma si può. Nel 2014 ancora il film è scritto come se fosse il 60 watt con questa tavoletta Ouija. Ora, va detto che è uscito Ouija 2 di Mark Fanagan al cinema, ma Mark Fanagan è regista di Oculus e Somnium, è un esso a Palleose, non è rientrato fra i migliori, ma è comunque un regista che meriterà e si vedrà, si verrà storicizzato un po' di più di quelli che ho detto. Ma questo Ouija è terrificante, è bruttissimo, una noia assoluta. Un film un'altra volta che non fa nessuna paura, fa ridere in ogni sua inquadratura. In più è tecnicamente scialbo ed ha proprio il senso di quei film fatti per la televisione un tempo che oramai però arrivano al cinema, che sono tutti uguali, come ho detto, con il solito gruppo di persone che viene sterminato. E il problema però alla base, secondo me, di questi film non sono solo le sceneggiature così terrificanti, ma è proprio che questi registi non hanno idea di come creare la paura e di come dare un po' fastidio anche allo spettatore. Sono tutti film leggeri, che non danno mai l'idea di voler essere crudeli, cosa che invece un horror dovrebbe sempre essere. Allora, metto lui come remake, è un altro, ma varrebbe un po' che quasi tutti i remake dell'oro e l'oro che fanno tutti cà, ma il Nightmare del 2010 di Samuel Bayer è roba da vergognarsi. Ora, primo, perché Nightmare di Wes Craven era un vero capolavoro, aveva creato Freddy Krueger che dopo i mostri classici è forse l'unico vero Bao Bao, come si dice, l'unico vero uomo nero che aveva davvero fatto, dopo Michael Myers, diciamo così, ben più di Jason, avevano creato questo personaggio fantastico, coloro delissimo, ironico, che in questo nuovo riadattamento è banalizzato ed è ridotto al solito, coglione, papà, addirittura così, ustionato, che non capisce un cazzo, perché c'ha gli artigli tanto per di. Il film, quindi, è veramente un remake di merda, come quasi tutti i remake, ma questo è scritto da culo, partendo da una base incredibile, poi c'era 200 segue e poteva attaccarsi a qualcosa, invece niente, si sono semplicemente attaccati all'ideina base, cercano di copiare le solite scene, ma assolutamente registrano incapace, non c'è tensione, non c'è assolutamente spavento e soprattutto, per favore, non tocchiamo così i classici come nulla fosse, perché Nightmare è un vero capolavoro del cinema e non andava ridotto a questa poltiglia di merda che mi ha toccato sorbirmi, proprio perché io, come si dice, di horror mi sorbisco sempre tutto, ma qui di horror non c'ha nulla, l'unica cosa che fa veramente spavento sono i produttori che ne hanno dato pure vaini a questo inconcepibile regista per fare questo remake idiota e inguardabile. Altro film del 2012 che bisognerebbe cancellare, proprio dalla mente, da quanto è brusto, è Chernobyl Diaries, che è la storia di questi coglioni che dicono di partire ad andare a fare la citarella a Chernobyl, ora già mi devi dite quanta gente ha voglia di andare a fare una bella citarella dove a Chernobyl che è scoppiata una centrale cogliale. Il secondo motivo per cui mi stancho sul cazzo è che comunque si sta parlando di una storia vera di qualcosa di, di una delle disgrazie per l'umanità più grosse del mondo e qui si butta sull'horror come nulla fosse, in più il film è girato per un'ora tutto o macchina, non succede un cazzo. L'unica cosa che fa veramente terrore è lo sciacallaggio dei produttori che prendono una storia vera e ci imbastiscono un horror terrificante e demenziale, tanto per Garbà e ragazzini, un'altra volta mezzo un documentario da Teleamer e rimbalza tutte le parti, recitato da schifo, diretto o peggio e che non ha alcun senso di esistere, manco come poster, doveva essere proprio cancellata all'idea, ma anche questo credibilmente è incassato, quindi probabilmente tutta la merda è visto a di, sono tutti i film che staranno a Garbà, per me questo resta uno degli esperimenti peggio riusciti dell'horror moderno e non solo, una cosa indegna del genere umano. Brent Bell è quel regista che aveva fatto Stay Live, è una zotta inguardabile, ma visto che ci sono ho deciso di metterci questo filmaccio del 2012 che è l'altra faccia del diavolo, è il mesimo documentari con il diavolo, non se ne vuole più, la storia di questa ragazza viene a Roma alla ricerca di questo spettro che dovrebbe essere impossessato dentro la mamma da 30 anni di via di giù che tira fuori così e c'è la cucina rovesciata, tutto viene il film, film di merda, film mal girato, mal scritto, mal interpretato e senza una scena o una che dia un minimo di inquietudine, questo a differenza anche di Stay Live del solito regista che magari in Paris Scena la beccate, fa proprio cadda all'inizio alla fine, perché se si pensa di scrivere una sceneggiatura nella quale un devone non può abbandonare il corpo di una persona e poi come arriva a Vestavilla abbandona 25 volte in 5 minuti, è un film che già non torna, non ci si apisce in cazzo, il devone incorporeo che non può cambiare corpo come arriva al nostro protagonista, cambia corpo e si perché no, scriviamolo col buco del culo il film, tanto ormai la gente i film li guarda con le uffe nelle orecchie, Facebook attaccato alla mano e dall'altra parte Whatsapp, quindi che dire, questa roba di che è l'altra faccia del diavolo, come vogliono in me spendi di più a parlarne perché è una vera monnezza, la monnezza di solito si prende, si mette nella spazzatura e nel cassonetto la spazzatura e ci se ne dimentica e questo è quello che voglio fare io al più presto con questo film di merda. Michael J. Gallagher ha il bel gusto di girare un altro film che è anche riattaccato a internet, tutto il resto che si chiama Smiley, del 2012 che dovrebbe essere uno slasher con questo alla maschera assassina e invece di essere uno slasher si risolve in uno dei film più deficienti che l'essere umano abbia mai deciso di creare, perché non ve lo voglio raccontare tutto perché è talmente scemo e idiota che lo dovreste vedere. Dicevo, è talmente brutto e delicante che non ci si crede, non spaventa assolutamente, l'unica cosa che mi aveva interessato, me lo pupai al cinema, me lo avevo inculato e presi, è che c'era la maschera Smiley, era molto carina. Peccato che il classico film di redenzione e morte con questi che fanno lo scherzo, forse non fanno lo scherzo, la gente muore, forse non muore, non torni per un minuto, che tutto sia talmente scritto col buco del culo che ormai ci siamo dimenticati, assolutamente, di come si riesce a scrivere una sceneggiatura che abbia perlomeno un minimo di senso. Si sa che nell'horror ci si può sbizzarire incazzate, tanto è un film dell'orrore, ma qui siamo non davanti a una cazzata, siamo davanti a una vagonata di cazzate, davanti a una vagonata di cazzate, nessuno può non pensare, ma chi me l'ha fatto fa, di vedere sto cesso di film. Si parla di remake, di non aprite quella porta, l'hanno fatti 27 remake negli anni 2000, l'ho preso a debito nell'ultimo, quello che si chiama non aprire quella porta 3D, di questo John Lusserlup, nel 2013, ho preso visto perché era l'ultimo, ed è l'ennesima distruzione del mito di Leatherface creato dal grandissimo Tom Hooper, perché se il film degli anni 70 del grandissimo Hooper era volutamente naif, girato con una telecamera sporchissima che entrava nell'iride dei personaggi, che faceva capire la violenza anche subita da Leatherface e che voleva avere dei sottotesti enormi come il vecchio taleresimo, l'eccessivo con un sumismo americano e tutto il resto, questo invece è ridotto a un cazzio cazzone del quale fanno addirittura vedere la faccia, cosa che non si dovrebbe mai fare, che si mette le facce dell'altro e che, lo dio, alla fine diventa pure mono, pure mono ma si sta a scherzare, questo vi ha girato una delle peggio merde che si siano viste al mondo, un remake insostenibile che in mezzo al mare dei remake, diciamo così, viene innalzato tra i peggiori proprio perché Leatherface non è mai riuscito ad essere, sta remakeizzato in maniera decente, neanche nei sequel, solo Top Hooper nel 2 l'ha buttata quasi in burla pur pigiando tantissimo sulla sua creatura e rendola un po' più umana, ma qui siamo di fronte veramente a gente che è incapace di fare proprio lavoro, io capisco che come in Italia lavora altri cugini, biscugini, nonni e lecca ulo, ma questi lecca ulo perlomeno sceglieteli che abbiano delle qualità, ci saranno dellecca ulo che stanno agire film, ecco sceglieteli magari boni questi lecca ulo perché se scegliete lecca ulo e fanno fare questi film di prodotti da Michael Bay e Misper siamo tutti di nuovo a punte a capo, cioè l'horror muore in una degenerazione totale di remake inutili e squalidi appunto come questo, non aprite quella porta in 3D che è la summa della schipezza. Ora dell'Asylum non parlo mai perché me ne frega nulla, sono tutti film di merda, ma io film di zombie li adoro, mi calverebbe vederli e se li salvo addirittura a Zombielite ma questo zombie apocalisse di 2011 giracolo da Nick Lyon con Big Rames come protagonista è talmente brutto che mi ci renda ridesso la pensaggi, cioè gli zombie si vedono a 4 minuti, è un film, sono fatti malissimo, il sangue esclusa è tutto al computer, se c'è una cosa degli zombie dovrebbe far paura è appunto la loro personalità di essere umani non consenzienti ma in un certo senso ancora umanoidi, qui tutto il lato politico e sociale viene buttato via per girare un action che non è action perché il regista ha un ritmo allucinantemente noioso, non riesce a montare bene, scavare carcampo nei 3x2 e gli attori, lo stesso Bing Rames che va detto è marzato su all'asile di fanficio pare che sia scivolato lì per caso, probabilmente anche lui ce l'ha i suoi bedevi di da pagare un film inconcepibile nel quale metto tutta la nota Asylum della quale mi sono anche rotto i coglioni di parlare perché è quella che sta distruggendo anche il cinema indipendente quasi horror che ormai è ridotto a fare sta merda tipo Sharknado con questa roba tanto per divertire un po' e se per Sharknado ci si poteva stare, gli zombie per favore lasciateli toccà a chi li sa toccà perché sono l'esempio del mostro moderno più intelligente mai creato dal nostro mitico Romero quindi sto film è veramente una zotta insostenibile altro POV, altra corsa, altro omocumentario di merda It Colors, l'esecuzione del 2020 mi pare anche lì girato in coppia da due registi Thomas, me l'ho scritto perché mi sono ben rivedato Thomas Cliff e Chris Loffing che hanno girato questo It with the Gallows appunto l'esecuzione è la storia inconcepibile di un gruppo di ragazzi che va a cercare di dar foo alla palestra della loro scuola per non andare al ballo ora mi dovete dire se non vi darà addirittura foo alla palestra per andare al ballo ci vai e fine però in questa palestra si è successo che anni prima uno mentre facevano la diciamo si sto spettacolo teatrale nella palestra dove loro non ci vogliono andare a fare lo spettacolo quindi le vogliono andare fuori spettacolare anche questo rimangano rinchiusi con lo spettro di questo che durante lo spettacolo è rimasto gallos è rimasto davvero impiccato e morto quindi vengono perseguitati la cosa incredibile è che diciamo quello che porta la macchina appresa è quello che non gliene frega un cazzo perché non ha niente a che fare con la storia è semplicemente il ragazzo di uno che fa oh io voglio riprendere tutto, voglio riprendere tutto anche lì ma uno è vaffanato mandaglio ma ci va con la macchina appresa così c'è le prove chi è stato a bruciare? boh c'è la macchina appresa, c'è la videossetta abbiamo trovato, c'è proprio l'idiozia completa del cinema un film inconcepibile che va di diritto fra i peggiori del 2000 ma di diritto, di diritto e che si porta dietro un altro film di merda del quale mi dispiace anche parlare male perché il film si intitola Six Tape ed è anche lì la storia naturalmente anche questi temi documentari di una che col suo uomo vanno dentro questo ospedale vengono chiaramente presi dalla solita identità lei che ci riporta anche degli altri amici inizia a fare fuori un po' tutti lei è buonissima ma quello che dispiace veramente è che il regista di questa monnezza è Bernard Rose ovvero il regista di Candyman ridotto di Anna Caranina ridotto a girare sta schifezza probabilmente per Piglià Dubaini che non si può guardare da nessun punto di vista aveva detto che Bernard Rose perlomeno si è represo con il Frankenstein particolare che ha girato ultimamente che poi metterò nei consigli di là nel mio canale girando un film indipendente finalmente interessante ma questo Sex Tape è roba veramente la vergognassi solo a pensarci quindi ennesima cagata, ennesimo documentario finto, ennesimo film da cancellare dalla storia del cinema chiudo con uno dei film più brutti che l'umanità abbia mai visto horror o no è del 2010 la meriana aveva comprato i diritti di Dylan Dogg per fare il film da 30 anni praticamente e cosa sono riusciti a fare? questo Kevin Murrow che era il regista di Tartalughe Ninja a cartina animale ma come si fa? ha Dan Horror in mano al regista di Tartalughe Ninja a cartina animale vabbè come si fa a fan film sulle Tartalughe Ninja? ancora mi chiede ma al di là di questo questo Dylan Dogg è il film del 2010 questo Kevin Murrow è terribile allora di Dylan Dogg non c'è niente al di là che posso passare sopra che non è a Londra ma a New Orleans che non c'è Graucio ma c'è uno zombie che non c'è l'ispettore ma non c'è uno che Dylan Dogg fa a cazzotti o pugni di ferro e che quindi è il contrario del Dylan Dogg faccia fissa che conosciamo passiamo sopra a tutto questo e consideriamo il film assieme come se non fosse Dylan Dogg è una merda già l'hanno fatto fa a questo coglione di Dometri che aveva fatto Super Mario Trans con l'osso me un armadio che invece se era tutti pensato a Rupert Everett poteva essere ancora in grado non è niente a che vedere col grandissimo film della morte e dell'amore di Michele Suavi questo Dylan Dogg non ha niente di Dylan Dogg e sembra di vedere Constantin girato per la televisione fatto male con lui va a giro in questo mondo dove c'è demoni vampiri e cazzi lo roscano tutti lui ha smesso di fare l'investigatore non c'è ironia vera non c'è passione non c'è voglia di trasmettere nulla c'è solamente una cozzaglia di schifezze che fa sembrare Buffy l'ammazza vampiro un serial televisivo talmente bello da poter essere proiettato in tutte le scuole di cinema tale è la bruttura di questo Dylan Dogg il film forse il film degli anni 2000 horror più brutto che mi sia mai capitato di vedere o sicuramente la delusione più grande che mi sia capitato di vedere e con questo concludo la lista anche dei peggiori quindi un saluto a tutti quelli che mi seguono qui su filmisnow un saluto a martin che come al solito mi ha aiutato con le riprese ad un'ora e a tutti i ragazzi che vengono qui da me in videotech in via magenta a videodrome a Livorno grazie a tutti comunque speriamo che il prossimo video dell'angolo del frusciante abbia vita e che sia interessante per me come questo buona grazie a tutti